Bene, buongiorno. Io direi di avviare i lavori. Grazie, grazie di essere intervenuti qui a questo nostro primo evento dell'Osservatorio ADR post-Covid. Purtroppo la nostra attività è stata sempre svolta qui all'interno delle aule parlamentari. Abbiamo come vita, come quasi voi la maggior parte sapete, nove anni di attività all'interno delle aule congressuali della Camera dei Deputati, cercando di mettere in contatto i professionisti con il mondo istituzionale. Quale migliore occasione per riprendere l'attività con un titolo che è diventato il nostro mantra? Accendere le menti. Penso che questo sia l'obiettivo che ci siamo posti, soprattutto in tempi così difficili che stiamo vivendo, di cambiamenti geopolitici e quindi l'importanza fondamentale di quello che è il ruolo del formatore, non soltanto nel mondo accademico, ma in ogni ambito della nostra vita economica sociale, quindi nell'ambito dell'impresa, nell'ambito della cultura. Accendere le menti, quindi un mantra che ci caratterizzerà e che caratterizzerà quindi gli interventi che voi vedrete oggi qui alla sala del refettorio della Camera dei Deputati. Oggi siamo qui grazie all'interessamento, alla condivisione delle nostre idee da parte dell'Onorevole Vito De Palma che ci ha messo a disposizione questa magnifica aula all'interno all'interno di questo palazzo storico dove fu sede dell'inquisizione di Galileo Galilei, quindi diciamo è un ruolo, è una sede molto 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 importante. Quindi ringraziamo di cuore l'Osservatorio ADR, ringrazia di cuore veramente l'Onorevole Vito De Palma che invito a venire qui sul palco per un saluto istituzionale. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Giammario, sono onorato di aver condiviso con voi questa iniziativa e soprattutto di aver messo a disposizione, non la sala, perché purtroppo non è mia, non è voluto che fosse di mia proprietà. Ho affiancato voi perché ho condiviso la vostra proposta, proposta che guarda la formazione in un momento particolare come questo, va non solo condivisa ma va sostenuta. Io condivido con voi questa iniziativa, così come saluto tutti coloro i quali parteciperanno in qualità di relatori, saluto il senatore Castelli con il quale abbiamo avuto un passato condiviso, lui in una città molto più importante della mia, sindaco della città di Ascoli, io sindaco della città di Ginosa in provincia di Taranto, però ecco questo cammino comune oggi poi ci ritrova all'interno del Parlamento. Dicevo è importante oggi il vostro simposio ma è soprattutto importante anche quello che voi fate dal punto di vista della formazione e su questo anche facendo seguito quelle che sono state le interlocuzioni, discussioni, confronti dei giorni scorsi, ritengo di dare a voi e a tutti la mia disponibilità a condividere anche iniziativa importante a livello nazionale sulla formazione. Questo tema è un tema che deve caratterizzarci perché significa formarsi, significa studiare, significa conoscere e per farlo abbiamo necessità, da un'occhiata al vostro libro e voi fate, se si dice che voi fate riferimento soprattutto al ruolo delle metafore e per utilizzare una metafora per la questione penso che una cosa importante sia quello di emozionarsi e per emozionarsi bisogna essere vulnerabili, noi non lo siamo in genere perché siamo spesso pieni ognuno di noi, insomma proprio io, un po' pieni di sé e così via. Per essere vulnerabili abbiamo necessità di far passare attraverso le nostre figure questi messaggi, per cui oggi io penso che questa giornata importante deve partire, secondo il mio maestro parere, da un presupposto, dobbiamo lasciarci passare da questi temi della giornata odierna attraverso il mondo della vulnerabilità che spesso appartiene a due figure particolari, il mondo degli anziani e il mondo dei bambini, sono quelli che facilmente si emozionano, noi dobbiamo farlo perché secondo me attraverso i nostri ruoli, immagino il mondo accademico, abbiamo necessità di far passare ad altri un messaggio importante, il messaggio della crescita, noi ci siamo, quindi manifesto ancora una volta la mia disponibilità a collaborare con le vostre iniziative, grazie a tutti. Bene, la parola emozione, la parola empatia, quanto ci caratterizza, qui all'interno della sala ci sono membri del board dell'osservatorio ADR, col quale abbiamo condiviso l'idea di costituire un progetto di innovazione sociale, ossia mettere insieme dei know-how completamente differenti, non vogliamo essere selettivi, soltanto avvocati, ma abbiamo voluto mettere insieme imprenditori di diverse esperienze, di diverse esperienze in ogni campo della vita sociale per cercare di proporre delle soluzioni concrete. E la parola emozione, oggi sono veramente particolarmente emozionato nel chiamare qui sul palco il senatore Guido Castelli che ci ha seguito dall'inizio della nostra attività e che qui è venuto per un saluto e oggi posso dirlo, Guido ha un importante ruolo all'interno del governo che è il commissario per la ricostruzione del 2016 al quale auguriamo un buon lavoro e lo invito qui a raggiungerci qui sul palco per un saluto. Benvenuto Guido, benvenuto a casa. Buongiorno, ricordava Gianmario Battaglia i primordi della nostra relazione quando l'ADR si soffermava prevalentemente sul tema della mediazione, quindi della giustizia riparativa, quello era il primo luogo di sviluppo dei talenti che ADR aveva messo in campo. Io saluto il collega De Palma che ricordava un pezzo della nostra vita che dal punto di vista esperienziale ha sicuramente generato competenze e funzioni che poi nel tempo cercheremo di poter valorizzare. Devo dire che quando l'Avvocato Battaglia mi ha trasmesso l'invito ho subito rivisto in questo titolo e in questo tema un tratto del grande coraggio che ha sempre mostrato l'ADR, nel mettere insieme cervelli e competenze, perché questo è il tema dei temi, il tema dell'umanità in questo momento, perché viviamo, e scusate se faccio filosofia spicciola, in un frangente della storia dell'uomo in cui siamo bersaglio di informazioni, siamo destinatari di contenuti che vengono prodotti e elaborati in maniera incessante e trasmessi da device che tendenzialmente organizzano la società all'insegna della disintermediazione. Voi oggi invece vi intattenete su una delle forme più nobili dell'intermediazione che è quella dell'apprendimento. Il formatore altro non è la versione, diciamo, aggiornata e moderna 4.5.0 dell'educatore, del maestro e credo di aver letto proprio nel libro che il professor Uricchio mi ha consentito di leggere anticipatamente i tratti distintivi di quella che è una battaglia complessissima. Noi siamo bersaglio di impulsi, se non abbiamo la capacità critica di organizzarli, noi siamo di fatto delle persone dipendenti da quegli impulsi, incapaci di esercitare e sviluppare l'esercizio critico che ci consente poi di affermare in maniera organica, anche creativa, il contenuto di quegli impulsi. Cioè il tratto che corre di strada fra conoscenza e dipendenza, anche dalle informazioni, è veramente brevissimo, rischia di essere brevissimo. Da qui esiste un'attualità di una proposta che è sfidante davvero e che in qualche misura deve tener conto che in Italia e non solo nell'uomo digitale vi è un grande bisogno di formazione anche delle classi dirigenti. Io mi occupo di ricostruzione, dopo 7 anni non è facile farlo, anche perché uno degli elementi con cui mi devo misurare giornalmente è proprio la rassegnazione, l'insofferenza, il nervosismo, più che legittimi dopo tanti anni, passati anche in parte inutilmente e quindi dal mio punto di vista e volendo per un attimo aderire a quello che è il palinsesto della giornata di oggi, devo dire che anch'io mi devo occupare, se non di accendere elementi, di distenderle in maniera tale che l'obiettivo sia chiaro e nitido. Ora, la forza e l'utilità della vostra riflessione, sarò una dissonante forse in questo, deve, professore grazie perché la citavo proprio perché mi ha consentito il professore Ricchio di riconoscere prima. Per chi, e mi rivolgo, immagino a persone che della formazione vogliono fare anche un pezzo della propria occupazione, nel senso buono del termine, comunque della propria funzione sociale, bisogna starci attenti alle emozioni, perché l'emozione è un elemento decisivo per il trasferimento delle conoscenze, però deve essere un'emozione orientata a valori e a conoscenza, cioè l'apprendimento e il trasferimento di conoscenza deve essere anche un incanto, però bisogna mantenere, secondo me, una professionalità e una qualità dell'informazione che, dopo gli effetti speciali, consenta l'accrescimento della personalità. Quindi io che sono fermo ancora, strenuamente, al principio socratico del so di non sapere, l'importanza, secondo me, di una buona formazione è quella di essere sfidante, stimolante, ma anche capace di produrre la grande qualità che, secondo me, deve avere un discente nel momento in cui vuole affrontare il periglioso cammino della vita, che è l'umiltà. Santa Caterina da Siena diceva che bisogna farsi vuoti di sé per diventare uomini e donne, cioè la capacità di rendersi docili all'apprendimento continuo. Quindi, a mio modo di vedere, se dovessi per un attimo pensare di arricchire il volume di Smaiosa, ci aggiungerei questa cosa, cioè l'accensione della mente deve provocare la fame della conoscenza. E la fame della conoscenza ha un solo grande nemico, l'appagamento, la considerazione di essere già giunti al completo sviluppo della propria personalità. Mi scuso se è quest'ora della mattina di stilo, pillole di saggezza, ma lo faccio per me stesso perché avrò qualcosa come tante ricostruzioni da fare. Quindi grazie, buon proseguizione. Fra un po' mi assenterò, però qualche cosa ancora la voglio sentire. Grazie, buon lavoro. Grazie, senatore Castelli, di essere intervenuto. Fame di conoscenza e umiltà. Voglio partire da questi due principi che, in parole povere, devo dire la verità, hanno caratterizzato un po' la nascita dell'osservatorio. Vi racconto questo aneddoto. Quando io e Francesca Tempesta abbiamo dato vita all'osservatorio sul uso degli sistemi ADR con Ivan Giordano nove anni fa. Effettivamente eravamo dei semplici professionisti che cercavano nel loro piccolo di dare un contributo concreto, diciamo, cercare di dare un contributo concreto, non soltanto per quanto riguarda il settore della giustizia, ma, come abbiamo detto, per cercare di fare innovazione sociale. E abbiamo ritrovato questa fame di conoscenza e soprattutto umiltà in trattamento di personalità di prestigio, come qui abbiamo al nostro tavolo il professore Antonio Felicio Ricchio, che salutiamo con un calorosissimo nuovo applauso, che ci hanno guardato e hanno immediatamente accettato di far parte del nostro, chiamiamolo, della nostra famiglia, perché non è un gruppo, della nostra famiglia. Il premio di oggi, noi, come avete visto nel programma, abbiamo istituito anche un premio che è dedicato alla memoria del professore Alberto De Santis, che era il presidente di Anaste, ma lui nasceva come formatore, come insegnante e quindi ha portato dentro di sé tutta la vita questa sete di voler dare conoscenza e soprattutto stimolare le menti delle persone. E Alberto, posso ricordarlo, che quando la prima volta io e Francesca siamo andati a trovarlo, gli parlavamo di questi nostri progetti grandiosi di mettere insieme imprenditori, professionisti, portarli alla Camera delle Deputati, ci ha guardato e mi ha detto, ti devo dire la verità Gian Mario, quando siete venuti ho detto, ma questi che cosa vogliono? Però poi sentendovi parlare mi avete convinto e io mi sento parte della vostra famiglia. bene, abbiamo adesso il primo panel dei lavori e sono veramente lieto di salutare al tavolo di presidenza, abbiamo i lavori perché non vedo in sala il senatore Roberto Marti, che molto probabilmente ci raggiungerà a breve, ma poi saremo molto bravi, vero dottore, a dargli immediatamente la parola per un saluto introduttivo. Saluto, saluto veramente con piacere al tavolo di presidenza il dottor Massimo Lucidi, che sarà il moderatore di questo primo tavolo di lavoro, il vicepresidente esecutivo dell'osservatorio ADR, il dottor Ivan Giordano. Saluto al tavolo di lavoro il professore, avvocato Lucio Ghia, membro del board dell'osservatorio è naturalmente illustre, esimio, avvocato. E per ultimo, ma non ultimo perché gli ultimi saranno i primi, il professore Antonio Felicio Ricchio. Lascio volentieri la parola al nostro moderatore e ci vediamo dopo. Grazie. Bene, intanto consentitemi molto brevemente almeno di ringraziare questa famiglia dell'osservatorio ADR perché mi ritrovo, mi riconosco completamente, tanto che quando mi fu proposto di moderare eravamo nel mese di luglio e io notai che non solo i temi erano quelli cari nella mia esperienza professionale. Oggi sono il direttore di un giornale che è legato a filo doppio all'UNESCO sui temi della sostenibilità, presidente di questa fondazione che ha nella cultura della vita il proprio obiettivo. Noi organizziamo a Washington il premio Eccellenza Italiana, voi partite dalla formazione con un accendere elementi che è una roba pazzesca di grande impatto e sono contento che tra poco faremo anche un collegamento con Reis Milo, un videosaluto e ci sarà Ivan Giordano che ci presenta il libro. Quindi, come dire, vi devo solo ringraziare e mi sono predisposto a prendere molti appunti. E con questo spirito vorrei dire che rispetto agli interventi che abbiamo poco fa sentito dei nostri amici politici è importante accendere elementi nel mondo universitario della cultura e della formazione perché da lì dobbiamo partire, dalla classe dirigente. E probabilmente, ecco, vi propongo che quello che potrebbe succedere oggi, anche grazie alla vostra partecipazione così copiosa, è quella di ricostruire un nuovo patto, perché poi parlate di emozione quindi lo devo per forza dire, tra cuore, ragione, interessi e sentimenti. Perché se noi ricostruiamo un patto tra i due emisferi del cervello, nella nostra qualità della vita avremo un grande impulso, ma sicuramente daremo un grande stimolo al Paese. A mio modesto parere questo è possibile. Dunque, bando alle chiacchiere del moderatore che deve solo moderare e quindi do la parola con molto apprezzamento, con molto interesse a Ivan Giordano che è il vicepresidente esecutivo dell'osservatorio, ma è anche il presidente di CAF, quindi uno che si sporca le mani nella formazione. Prego. Buongiorno a tutti, grazie per l'importante partecipazione a questa giornata, che vede soprattutto me emozionato, avendo parlato di emozione, perché stavo per dire che l'epilogo in realtà è una tappa importante di un percorso che deve sicuramente ancora compiersi, di questo rapporto con il professor Raymond Smiler, che ha ispirato attraverso l'incarico che mi ha conferito di cura dell'edizione italiana del libro Fire in the Classroom, che sarebbe il titolo originale, accendere elementi tradotto in maniera, io credo, molto efficace all'interno, nell'ambito dell'edizione che sta avendo un grande successo nel nostro paese, edito da Guerini Next, che è qua presente in sala. Devo dire che l'emozione transita attraverso la lettura di questo libro, la lettura che ho fatto chiaramente nella sua lingua originale e che ho con il fondamentale supporto di Ilaria Galli, che ha curato letteralmente la traduzione, ho avuto la possibilità di arrangiare, come si dice in gergo tecnico, perché l'inglese è molto sintetico, l'italiano invece ha una disponibilità di termini molto più ampi e molto più ricca e effettivamente c'è un passaggio riconosciuto dal professor Smiler nell'ambito della traduzione dell'edizione italiana che è un passaggio di valore rispetto a questo libro, perché la lingua italiana ci ha consentito di trasmettere molto meglio attraverso una terminologia che è invece in genere più sintetica nei termini anglosassoni. L'emozione è un termine ricorrente, io vorrei utilizzare un altro termine che è la trasformazione. Siamo in un panel, quello della presentazione del libro, che vede l'accensione delle menti nel mondo universitario della cultura e della formazione. Il mondo universitario, quello della cultura e quello della formazione, tutti rappresentati in questa importante aula istituzionale nella giornata di oggi, purtroppo spesso non dialogano e sono mondi impermeabili tra loro. Dovremo lavorare per avviare una permeabilità a questi mondi. Perché se il mondo accademico, che ha delegato adesso una parte della formazione, poi lascia nel mondo reale, nella società, nell'ambito lavorativo, alla formazione svolta da altre istituzioni formative la propria funzione, ora i due mondi dovrebbero dialogare. Quindi la cultura, la formazione e il mondo accademico dovrebbero essere consapevoli di fare parte di un unico ampio progetto che alla fine vede come obiettivo la trasformazione del discente. Come si trasforma il discente? Il professor Uricchio nell'introduzione al libro cita Maria Montessori e la cita richiamando i seguenti concetti ingegno e capacità di emozionare associati alla figura del formatore. L'onorevole De Palma ha parlato di emozionarsi attraverso la vulnerabilità. Allora il formatore stesso deve essere vulnerabile, il formatore stesso deve sentirsi vulnerabile, il formatore di esperienza formativa deve sentirsi una persona trasformata, non necessariamente migliorata, ma in ogni caso arricchita, magari la consapevolezza di non essere più adeguato a quel ruolo e quindi lo stimolo per migliorarsi, oppure l'apprendimento di uno strumento formativo che non gli apparteneva e che gli è stato stimolato proprio dal feedback d'aula. Allora se noi viviamo la formazione come un momento nel quale il formatore, in un contesto differente, e i discenti rispetto alla principale funzione che la formazione deve avere, devono vivere una trasformazione e allora sia i discenti che il formatore devono mettere sul tavolo la loro componente di vulnerabilità. Essere pronti ad emozionarsi, come diceva prima l'onorevole, come farebbero i bambini e come farebbero le persone anziane, quindi pronte a accogliere l'emozione e attraverso l'emozione acquisire le informazioni e vivere il momento della trasformazione. Oggi viviamo, e lo diceva molto bene, in maniera molto efficace, il senatore Castelli poc'anzi, una realtà nel web, ma non solo nel web, di bombardamento di informazioni. Un bombardamento di informazioni che non è mediato. Allora qua, devo dire, gioco un pochino in casa, perché mi viene da pensare che il formatore debba essere il mediatore nella nobile funzione della trasmissione delle informazioni. Se il mediatore, se il formatore si sente colui il quale, attraverso la sua formazione, sta mediando, accompagnando il trasferimento delle informazioni, dal proprio sapere che è tutto suo, alle menti dei discenti, arrivando fin anche ad accenderle, credo che questo debba essere il principale obiettivo di ogni formatore. Il professor Smilor, che tra pochissimi istanti ci raggiunge attraverso un bellissimo videomessaggio, che io ho avuto il piacere di guardare questa notte alle 4 ore italiana, perché abbiamo lavorato fino a quest'ora, Gian Mario lo sa, perché è un videomessaggio, lo ascolteremo chiaramente in lingua originale, che trasmette tutta l'emozione, pensate la difficoltà in un videomessaggio di trasmettere emozioni, me lo direte voi se percepirete la stessa cosa che ho percepito io stanotte, tutta l'emozione che si trasmette attraverso la lettura di questo, io ritengo, illuminante libro. Quindi Gian Mario, se siamo pronti, lasciare la parola al professor Smilor. Buongiorno. I am very excited to be part of this important event. I wish that I could be with you in person, but I am very happy to be able to be with you in spirit. I am delighted to celebrate with you the importance of a new kind of learning and training, to focus on a dynamic form of education that ignites minds, and to present a new award to help advance teaching and training excellence in your beautiful country. I love the title of this book, but what does it mean to really ignite minds? I have taught at every level, from teaching children with disabilities, to conducting classes in elementary and secondary schooling, to presenting courses at the graduate and undergraduate levels in universities in the United States and internationally, and to doing executive training in businesses small and large around the world. For me, igniting minds requires that we, as teachers, trainers, educators, and supporters of education, find ways to unleash the creativity of every individual, kindle innovation in every institution and organization, and spark the desire for lifelong learning in our own children and grandchildren. We can do this. Igniting minds releases an ability to think independently. This approach to education employs active learning strategies that utilize the power and the excitement of experiential learning. It makes learning personal, meaningful, and enjoyable. It emphasizes self-awareness and self-reflection. It sparks a person's curiosity through investigation and discovery, encourages critical thinking by challenging assumptions, and promotes risk-taking and the pursuit of opportunity through experimentation. As this book shows, igniting minds means that teachers, trainers, and educators, and even you and I as parents and grandparents, can inspire and not just inform, can challenge and not just dictate, can encourage independent thinking and not just rote memorization, and can indeed ignite creative and innovative ways to unleash an ardent desire to learn in every kind of student. At every level of schooling, in every kind of organization, and even in our own families and communities, we need to ignite minds. If we do, then we create a new core of leaders for the challenges that we face today and for those that lie ahead of us. I am grateful to all those who helped bring my book to publication. I would especially like to thank two friends and colleagues. It has been a joy for me to work with my dear friend, Ivan Giordano. This is our second book together. I am grateful for his skill as a translator, his tireless efforts to steer the book through the publication process, and his friendship. Grazie, Ivan. I also want to acknowledge Antonio Feliz Euricchio for his kind and thoughtful introduction to the book. Grazie, Antonio. I truly believe that igniting minds reflects a social duty. Those who have the privilege to assume the roles of teacher, trainer, and educator, and supporter of education also have a responsibility. It is responsibility to build leadership through creativity and resourcefulness at all levels of society, in our schools and institutions, in the business world, and even in our own families and communities. If we, in whatever role we play, can indeed ignite minds, then we become purveyors of hope for our communities and our countries. With hope, all things are possible and all problems can have solutions. With hope comes a belief that one can make good things happen, that an individual can grow and improve, and that one can make a positive difference in their life and in the lives of others. I think that this hope is what we are actually celebrating today. Grazie. Grazie al professor Smiler. Devo dire che io mi sono emozionato, avendo visto il video questa notte in anteprima, perché le parole del professor Smiler sono parole di grande incoraggiamento verso la nostra creatività, la nostra capacità come popolo, come nazione. Amici degli Stati Uniti e anche in sintonia nell'ambito delle nostre differenti origini e importanti diversità. Ma i valori che noi possiamo trasmettere attraverso un nuovo paradigma della formazione sono valori perfettamente compatibili con il messaggio che il professor Smiler ha condiviso oggi con noi. Grazie a tutti voi. Allora io intanto ringrazio te perché tu ci hai chiesto se il video ci avrebbe emozionato. A me personalmente mi ha toccato molto, ho preso molti appunti come avete sentito, sono richeggiate un sacco di parole che ci caricano di speranza, l'ha detto anche lui, di futuro, di vita, di bambini, di curiosità, di ricerca, di incoraggiamento, di sperimentazione. Io credo che la summa di questo intervento è un grande pensiero non conformista ma proprio alla San Paolo, cioè non conformatevi, ecco, quello di guardare sempre oltre. Che se vuoi per quanto mi riguarda conferma che esiste un modello italiano di eccellenza e sostenibilità che lo stesso professore ci riconosce, che la chiama creatività, che la chiama bellezza. E quindi grazie di questo bellissimo ulteriore momento di incontro tra le nostre esperienze. Io non vedo ancora l'onorevole Giorgia Latini che sarà per raggiungerci ma chiederei a Lucio Ghia a questo punto di fare il suo intervento anche perché credo che possa essere un contributo che mi aiuta anche a superare questa emozione portando un po' di ragione perché sennò prevalgono solo le ragioni del cuore. È giusto, Avvocato? D'accordo? Il cuore è comunque sempre un grande motore. E intanto grazie, grazie perché siamo riusciti a ritrovarci, a rivederci. Sono dopo due anni di praticamente di break forzoso e ci siamo di nuovo qua. E quindi mi fa molto piacere riprendere un percorso che come caratteristica essenziale ha sempre guardato oltre. Cioè oltre le difficoltà, oltre i problemi che caratterizzano il nostro quotidiano e quindi mi fa piacere ritrovare gli amici dotati veramente di un cervello che continua anche di notte come abbiamo sentito a lavorare. È una sorta di cervello newyorkese, la città che non si ferma mai, così è il loro cervello. E anche ritrovare il nostro mentore, Antonio Ricchio. E non posso non ricordare Alberto De Santis che è rimasto nei nostri cuori e che è stato un grande indicatore della strada da percorrere. Sono lieto poi di partecipare a questo incontro che si snoda su un tema molto intrigante e attuale. E accendere le menti, specialmente oggi, perché dopo la pandemia io ho notato un certo torpore, una certa stuifazione al mondo sempre più governato dal web, sempre più governato dalla tecnologia. Quando Neri Marco Rea, per citare un profondo conoscitore, quasi un filosofo del mondo dell'ironia e della battuta, ci stiamo sempre più trasformando in personaggi mitologici, metà umani e metà telefonini, metà computer. Voi vedete che c'è tanta gente in giro che è più interessata al computer che ai rapporti umani. Non si parla più. Io nei treni ogni tanto incontravo personaggi anche molto simpatici e riuscivo a comunicare. Oggi c'è il telefonino. E allora forse bisogna aprire gli occhi su questa realtà, cercare di ritornare a produrre qualche cosa che sia veramente indirizzato a migliorare i nostri saperi, che possa rendere più efficaci le nostre iniziative e possa più guardare al bene comune, all'interesse generale, che oggi mi sembra un po' relegato in un panorama di secondo piano. Ora, il libro, già è stato detto, ha un suo profondo perché oggi, in quanto i discenti i discenti devono essere estremamente capaci di interpretare le caratteristiche essenziali dei propri alunni e guardare alla propria capacità di essere incisivi. Cioè, si può essere effettivamente utili con dedizione, pazienza, è stato detto con umiltà, per migliorare le condizioni di apprendimento, per mettere a fuoco criteri di analisi e problematiche delle più varie. Che cosa mi è piaciuto di questo libro? L'essere aderente alla realtà, ai fatti, anche metodologicamente, si consiglia di comunicare in modo nuovo. Intanto di abituare a lavorare, secondo uno schema molto americano, in squadra, a fare squadra. E noi, da un punto di vista nazionale, non siamo molto bravi nel fare squadra. Vogliamo far prevalere sempre l'individualità, c'è sempre un conflitto di intelligenze superiori. Io devo dimostrare, prima di tutto, che la mia intelligenza è superiore. Poi veniamo al problema. E invece il nostro amico Ray Smilor ci dice, signori, attenzione, i risultati si raggiungono con la conoscenza, con la capacità di mettere a frutto i fattori comuni. Quindi fare squadra, primo. Secondo elemento, cercare di essere anche innovativi nel modo di comunicare. Per esempio il riferimento a brani musicali, che devono fare da sfondo a determinate lezioni. Oppure film. Quindi la possibilità di riunirsi e fare teatro, nel senso vero del termine. Cioè impersonando appunto situazioni, situazioni reali, sforzando di trovare delle soluzioni, allargando i confini della fantasia, dell'immaginazione. E sono tutti temi che dobbiamo tenere presente per raggiungere gli obiettivi che vogliamo raggiungere. Ma quello che mi ha colpito di più in questo libro è il riferimento a due, se volete, in un rapporto bionivoco, due indirizzi terminologici che mi sono particolarmente cari. Cioè attitudine e gratitudine. Attitudine del docente, perché effettivamente deve essere capace di fare il proprio mestiere. Ma attitudine anche nello scoprire quelli che sono le vocazioni, gli indirizzi, che i discenti devono seguire. E aiutarli a raggiungere i traguardi che naturalmente sono quelli più accessibili, più realizzabili. Gratitudine da parte del discente, che deve apprezzare la possibilità di fare il proprio mestiere in un determinato contesto, in un determinato ambiente. E' gratitudine del discente per ciò che apprende, ma anche per ciò che il docente apprende dal discente. Quindi c'è questo transfert bionivoco, che è estremamente importante, che secondo me è un filo di grande interesse che viene dipanato nel libro. Ma accendere elementi su che cosa? Perché? Signori, oggi non per scomodare Hemingway e la guerra in Spagna, quella civile, ma insomma, signori, noi siamo in guerra. Ma non siamo in guerra, e mi riferisco all'Ucraina, o mi riferisco ai 54 territori che sono in guerra, 54 aree che sono dilaniate dalla guerra. Mi riferisco anche alla natura che ci sta facendo guerra, che si è stancata degli abusi che noi abbiamo perpetrato. E allora noi dobbiamo accendere elementi sui 51 miliardi di tonnellate di anitrita e carbonica che noi continuiamo a produrre. Abbiamo bisogno di cervelli che effettivamente si svegliano. Io sono ottimista, per natura. Meno ottimista e meno fiducioso nella possibilità dell'economia di risolvere questi problemi. Più ottimista e fiducioso nella possibilità della scienza di superare questi problemi. E perché dico questo? Perché mi ricordo che alla fine degli anni Sessanta c'era questo terrore della bomba umana, cioè fame, mancanza di possibilità di produrre per esempio il grano necessario per soddisfare le necessità dell'India. E c'erano libri proprio da autori americani che dicevano attenzione ci saranno centinaia di milioni di persone che sarebbero morte di farlo. Poi bene fuori uno scienziato poco conosciuto un certo Norma Borla, l'agronomo il quale inventò il grano nano che si produceva con grande facilità dovunque e che aveva una grande resistenza alle intemperie e quindi con questi meccanismi si dette vita ad una produzione che ha fatto sì che anche in India non ci fossero queste drammatiche conseguenze. Allora dico noi dovremmo e avremmo bisogno delle migliori menti accese per cercare di capire per esempio quelle che sono le drammatiche conseguenze della produzione di CO2 connessa per esempio al cemento. Non so se voi sapete che una grande percentuale di anisite carbonica viene prodotta da cemento acciaio, dalla produzione del cemento dell'acciaio e della plastica. inquinamento in quantità molto maggiore rispetto a quello che viene creato dall'utilizzazione dei combustibili e di altre cose del genere. Quindi abbiamo appuntamenti di carattere scientifico che sono estremamente urgenti, importanti e che hanno bisogno di menti accese. Voglio approfittare di questa occasione anche perché siamo in un luogo a ciò deputato per tornare a un problema che abbiamo già analizzato in precedenti incontri cioè quello delle alternative dispute resolution cioè mediazioni, conciliazioni, arbitrati ecc. diceva Cicerone che il giudizio civile serve né cives ad arma veniant. Noi continuiamo ad avere un arretrato giudiziario di 2 milioni e 500 mila malgrado tutti i tagli che sono stati fatti l'aumento dei costi di accesso alla giustizia 2 milioni e 500 mila cause in attesa di decisioni. Cioè se si lavorasse solo su questo arretrato ci vorrebbero decine d'anni per smontare questo enorme peso che è la nostra giustizia. E siccome effettivamente sono rattrissato quando i colleghi dell'UNCITRAL cioè della United Nations Commission for International Trade Law mi fermano e mi dicono ma tu stai in un paese bellissimo dove avete tutto e di più avete le tre F food, fashion and furniture che vi distinguono in tutto il mondo ma è possibile che noi abbiamo questa sensazione di impenetrabilità di impossibilità di prevedere quali possono essere gli esiti giudiziari cause nel vostro paese durano dieci anni non si sa quanto costano alla fine della causa non si sa quanto porteremo a casa del nostro credito e capisci bene caro Ghia che noi in queste condizioni non possiamo consigliare ai nostri clienti di investire nel tuo paese e io faccio quello che posso per cercare di convincere che poi non è proprio così che le cose vanno anche bene quindi io credo molto che se tutti i paesi avanzati che sono nostri concorrenti gestiscono fuori dai tribunali più dell'80% del contenzioso ma perché non ci possiamo riuscire anche noi? Allora l'università è qui chiedo Venia anche perché perché poi effettivamente non è così nella sua università il rettore ha guardato a questa realtà è una delle cinque università che ha una facoltà che si occupa di alternative dispute resolution ma sono cinque le università in Italia che si occupano di questo settore le altre università due anni di procedura civile che significa? significa educazione al processo davanti al tribunale davanti a giù c'è toccato quando invece nell'alternative dispute solution c'è bisogno di energie di esperienze di saperi diversi che riescano a capire che è preferibile tornare a essere partner che non controparti e allora se posso ancora 30 secondi perché il problema c'è lo conosciamo è la soluzione per me la soluzione il primo gradino di una soluzione possibile realizzabile è quella di dare la possibilità al mediatore per esempio di effettuare la sua proposta di mediazione cioè di conclusione del conflitto anche a richiesta di una sola delle parti e anche nel caso di opposizione dell'altra parte perché a questo punto l'altra parte dirà no non mi interessa questa non voglio seguire in questo senso non voglio seguire in questo indirizzo il giudice che si troverà la proposta di mediazione effettuata ne terrà conto e sarà molto più veloce nel decidere la causa vi ringrazio molto per l'attenzione grazie avvocato Ghia e credo che a questo punto Gian Mario voglia presentare il senatore presidente della commissione cultura del senato che ringraziamo il senatore Marti allora il termine gratitudine allora l'osservatore il termine gratitudine che ha citato adesso Rora il professor Ghia io sono particolarmente grato la presenza oggi qui della presenza del senatore Roberto Marti poi sono campanilista io sono pugliese quindi sono doppiamente contento devo dire la verità e quindi oggi abbiamo l'onore della presenza del senatore Roberto Marti presidente della commissione del senato invito qui sul podio buongiorno a tutti mi scuso per il ritardo mi sono saltato mezzo intervento ritengo per la parte finale saldo solido e interessante i saluti del del saggio Roy Smilor che ha dato come mi dicevano gli organizzatori prima con un messaggio mi sono saltato il saluto del padrone di casa di chi ha consentito attraverso la autorizzazione del collega sempre pugliese Vito De Palma che saluto anche se non c'è di Castelli e sono onorato di essere qui di aver rincontrato dopo tanti anni perché i rapporti non sono di campanile ma sono rapporti umani noi investiamo sui rapporti umani Gian Mario Battaglia l'ho incontrato all'inizio del mio percorso della mia seconda fase legislativa perché ho iniziato nelle assemblee legislative nel 2010 ma l'ho incontrato qui alla Camera nel 2013 nella mia prima esperienza da deputato e i rapporti si sono mantenuti quindi è l'invito a quell'invito interessantissimo non ho potuto dire no per due ragioni per questo tipo di platea per il senso di questo contenuto ma anche perché non si può dire di no a un amico che stimi e che segui comunque anche se non ci si vede poi diciamo della Puglia qui c'è anche il professore Ricchio che diciamo è stato rettore fino a qualche mese fa presidente dell'Ambur adesso amico professionista importante per la nostra regione per il meridione d'Italia per il mondo dell'università diciamo quindi vuol dire che forse qualche cosa anche noi pugliesi la facciamo detto questo io immeritatamente porto il saluto personale ma del senato della repubblica in qualità di presidente della commissione cultura e pubblica istruzione quindi porto il saluto istituzionale oltre che il mio personale su un tema dove il professor Chia stava diciamo nella decelerazione dei temi che si potrebbero risolvere che sarebbero utili all'Italia le porto la mia prima e piccola esperienza personale io da 26 anni svolgo l'attività istituzionale politica in assemblee diciamo elettive non nominate e in uno dei miei diciamo nelle mie esperienze forse quella più bella quella di amministratore comunale da appena nominato assessore all'urbanistica che sia l'intera maggioranza di allora la mia maggioranza se avessero realmente intenzione di fare il nuovo piano regolatore generale perché sono convinto che quando si inizia un'esperienza le cose importanti si devono fare subito e un PRG in una città per avere una visione dare una visione a quello che poi può comportare o lo fai subito o non lo fai più mi dissero vediamo quando mi dissero vediamo io dissi non lo faccio più perché una cosa o si inizia e si inizia subito oppure è meglio non farla perché vuol dire che non si ha la capacità la forza e la visione di farla siccome diciamo questo è il primo governo lo ripeto in ogni possibilità convennistica e non solo è il primo governo indipendentemente dal colore politico con un'elezione reale di una maggioranza e di un presidente del consiglio dopo 12 anni fino ad oggi l'Italia ha avuto non si sa chi e come compresi noi che stavamo dentro un governo l'altro e l'altro ancora creando confusione ma non abbiamo avuto e potuto avere la responsabilità delle azioni che realmente compievamo dettate da un'emergenza sociale sanitaria dalla guerra da tutto quello che abbiamo visto ma non c'è qualcuno che si è assunto la responsabilità con gli italiani di dire e di fare qualcosa e sono sempre diciamo professore dell'opinione che le cose importanti si iniziano subito lo pensavo da primo militante di Silvio Berlusconi nel 1994 e credo che lui la riforma della giustizia se l'avesse fatta il giorno stesso in cui si insediò l'avrebbe realmente forse fatta e quello è stato uno dei cruci che si è riportato senza averlo poi risolto ma siccome sono cose più grandi di me ritengo che ci sia sicuramente una maggioranza solida un Presidente del Consiglio eletto una maggioranza in tutti e due rami del Parlamento che possano applicare quello che serve al Paese per viverlo meglio perché poi il nostro Paese è veramente bello il nostro Paese è veramente ricco ritornando al tema di oggi e soprattutto alla funzione che io posso diciamo suggerire coadiuvare su questo fronte io ritengo di rappresentare una commissione al Senato proprio per quella cosa che dicevo prima della maggioranza qualificata che si è rappresentata attraverso un anno fa il volere dell'elettorato al Senato rappresento la pubblica istruzione quindi il Ministero di Valditara che è un Ministero del Merito quello del Ministro Bernini che è dell'Università poi della Cultura con San Giuliano e dello Sport con Andrea Bodi questi quattro ministri che si intersecano all'interno delle competenze di questa commissione devo dire la verità stanno lavorando insieme su una centralità sulla centralità che è l'istruzione non perché il Ministro Valditara sia centrale rispetto a questo ma perché è fondamentale la nostra azione di PNRR si sta fondando non sulla formazione dei nostri ragazzi ma sui formatori perché noi della formazione diciamo ne abbiamo sentito parlare ma abbiamo visto solo diciamo amministratori regionali arrestati per la formazione professionale nel corso degli anni ma non abbiamo visto i frutti che realmente invece la formazione professionale può portare e noi stiamo investendo e stiamo facendo degli investimenti importanti perché ci sono degli investimenti importanti sotto l'aspetto economico sotto l'aspetto strutturale sulla qualifica del formatore il recente diciamo rapporto OCSE del 2023 che è stato presentato martedì scorso in Italia ci richiede quanto importante sia la formazione e formare i ragazzi dall'infanzia per evitare quello che sta accadendo che sta accadendo al centro sud è vero dispersione scolastica allontanamento tutti i problemi che diciamo noi viviamo nel mondo della scuola ma che accadrà in tutta Italia e accadrà in Europa se non siamo forti celeri e soprattutto incisivi nell'individuazione di questa figura fondamentale che voi descrivete benissimo che è quella del formatore quindi l'investimento centrale della pubblica istruzione che lega con il ministro Bernini con lo sport proprio prima della pausa estiva abbiamo portato a compimento la legge a nostra mia proposta della reintroduzione dei giochi della gioventù in Italia perché noi abbiamo bisogno di identità di ricordo di flessione della memoria perché abbiamo bisogno di ritrovare dei valori di rintrodurli all'interno della scuola dai più piccoli allenarli ed esercitarli allo sport allenarli ed esercitarli alla formazione prepararli a tutto questo perché noi abbiamo questo compito non potendo io contribuire alla riforma e alla giustizia come vorrebbe il professore posso però contribuire a spingere diciamo su una cosa che qui prendo come impegno diciamo importante a promuovere la giornata nazionale del formatore che può essere lo spunto utile su cui noi possiamo incentrare la nostra programmazione ritengo che il vostro apporto alla politica agli strumenti che la politica può diciamo portare sul campo sia fondamentale voi avete la cognizione e la conoscenza e la cultura per comprendere e far comprendere a noi dove possiamo accelerare e dove possiamo incidere al meglio noi ci siamo grazie dell'invito scusatemi se mi allontanerò ma ho una conferenza stampa con il ministro Valditara qui alla camera proprio per disegnare i prossimi provvedimenti che saranno sicuramente determinanti incisivi per quello che noi stiamo facendo anche qui oggi grazie grazie presidente e ci saluti anche il ministro vuoi aggiungere qualche parola perché è bellissima questa è una notizia eccezionale cioè noi è quello che sognavamo cioè l'istituzione della giornata nazionale del formatore perché il formatore ha un ruolo fondamentale il formatore non è soltanto un accademico il formatore è colui che ha il know-how in ogni ambito della nostra vita sociale ed ha la capacità deve avere la capacità di accendere elementi quindi grazie ancora presidente grazie di aver accolto il nostro invito la ringraziamo veramente e a nome della nostra famiglia perché l'osservatorio ADR è una famiglia una famiglia di 2500 professionisti che nel giro di questi anni ci ha seguito in ogni evento in ogni evento e quindi ancora grazie e lascio la parola al nostro gentilissimo moderatore figurati io sono colpito da questa concretezza e quindi io direi che forse mi spetta il compito molto brevemente di riassumere così torniamo nello spirito del convegno dopo questa bellissima proposta del presidente il senatore Marti avete visto che nel frattempo abbiamo fatto accomodare al tavolo di presidenza la nostra amica che conoscete tutti essendo membro del board dell'osservatorio ADR ma anche presidente della scuola di alta formazione domenica leone nel darti la parola mimma io devo però anche ringraziare ancora l'avvocato Ghia perché l'avvocato Ghia ha tratteggiato quindi ho preso anche tanti appunti ma anche tante ulteriori idee quindi ritorniamo nel mood del convegno fate squadra diceva Smilor e credo che questo lo abbia colto Ghia ma l'abbiate colto tutti quanti così come ha aggiunto quel senso di gratitudine che rende unico il rapporto tra formatore e allievo e mi veniva in mente la scuola di Atene che appartiene alla nostra cultura occidentale perché dalla postura e dal dal garbo che aveva il professor Smilor nel parlarci si vede questa cultura occidentale un bel momento della scienza e della ricerca diceva Ghia mentre si sedeva qui al mio fianco Mimma Leone allora se non mi aveva emozionato e lo aveva fatto Ray Smilor mi ha emozionato questa frase è un bel momento della scienza e della ricerca perché nel darti la parola Mimma il pensiero va a tuo figlio Guido Putignano che fu candidato al premio vinse il premio e che ha creato con la famiglia del premio eccellenza italiana che a questo punto si è sposata oggi con la famiglia dell'osservatorio ADR un magnifico networking internazionale di ricercatori è bello perché l'immagine dell'italiano all'estero non è più quella nostalgica non è più quella dell'emigrato povero ci sono ecco il fiorfiore di professionisti come appunto Ghia che cercano anche dall'Italia di portare valore aggiunto al nostro paese penso che dovevo all'intervento del professore lo dovevo a te lo dovevo a tuo figlio quindi scusate se vi ho rubato un minuto ma credo che questo sia il mio dovere e poi dopo di te ascolteremo chiaramente il professore Uricchio prego grazie un caro saluto a tutti permettetemi innanzitutto di ringraziare gli organizzatori per l'invito a partecipare a questo primo simposio nazionale devo subito dire che ho letto con molta attenzione curiosità il testo del professor Smailor in quanto mi ha fornito degli spunti sia sulla riflessione relativa all'apprendimento sia sugli obiettivi da conseguire sulle varie metodologie efficienti ed efficaci da adottare su quelle che sono le competenze e le abilità richieste a un giovane lavoro laureato per inserirsi nel mondo del lavoro ma anche a quella che riguarda la formazione universitaria e post universitaria gli obiettivi da conseguire nell'azione didattica erano stati già individuati da organismi internazionali come l'Unione Europea e l'ONU e mentre la prima riconoscendo la centralità della persona attraverso la strategia di Lisbona ha invitato gli stati a aumentare l'investimento in risorse umane e a definire le competenze informatiche oltre che a ampliare la conoscenza delle lingue straniere e la cultura tecnologica aveva favorito anche la mobilità di studenti e docenti e personale preposto alla formazione e alla ricerca dall'altro l'ONU nel goal 4 dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile si propone di garantire a tutti l'istruzione primaria e secondaria e l'accesso a un'istruzione tecnica professionale terziaria di qualità e vantaggiosa per l'occupazione allora da un punto di vista pedagogico cosa si deve fare con azioni concrete affinché si possano realmente conseguire gli obiettivi che sia l'Unione Europea che l'ONU avevano individuato e quali devono essere le metodologie da adottare per dare una risposta a questa domanda partiamo dalla fine e partiamo quando un laureato terminato il percorso universitario e post universitario si trova si trova ad affrontare il colloquio di lavoro durante il quale gli viene chiesto di parlare dei suoi punti di forza dei suoi sogni dei suoi interessi di come gli piace lavorare del ruolo che vorrebbe ricoprire in un team di quelle che sono state le esperienze lavorative passate e i successi raggiunti il candidato dunque viene esaminato nella sua interezza sia nella sfera emotiva che nell'istruzione perché oggi le aziende chiedono ai giovani maggiore capacità di decidere e di agire di utilizzare quelle che sono le proprie conoscenze e di mettere a disposizione di tutti in poche parole chiedono un apprendimento continuo ma allora come possiamo noi raggiungere questo obiettivo per quanto riguarda la formazione universitaria oggi le università un corso di studio deve assicurare quelli che sono gli sbocchi professionali occupazionali mettere a disposizione degli studenti un ambiente di apprendimento adeguato ed efficace adatto a quelli che sono i percorsi formativi garantire docenti qualificati e preparati assicurare la qualità della formazione universitaria fornire una solida istruzione e consentire l'acquisizione di abilità anche trasversali vorrei a questo punto esprimere alcune riflessioni su alcuni di questi obiettivi come abbiamo potuto notare nel delineare gli obiettivi formativi delle istituzioni internazionali esse insistono molto sull'apprendimento lungo tutto l'arco della vita perché saper rispondere alle domande essere aggiornati saper affrontare i vari cambiamenti proprio di una epoca complessa come la nostra sono le condizioni fondamentali per sopravvivere al suo interno l'obiettivo dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e sostenere lo sviluppo di un'istruzione permanente di qualità ma come? attraverso azioni che prevedono una stretta connessione tra le conoscenze acquisite attraverso la formazione quindi l'istruzione e quelle derivanti dall'esperienza quotidiana educazione informale dell'esigenza di imparare ad imparare e di fornire agli studenti gli strumenti necessari deve farsi carico l'intero sistema della formazione superiore e della ricerca perché gli atenei sono la sede in cui l'adulto pone a se stesso delle sfide per accrescere le proprie competenze riprogettarsi e continuare ad imparare e affrontare nuove sfide sociali le aule universitarie oggi sono più eterogenee rispetto al passato perché accolgono studenti o provenienti da differenti ambienti sociali o appartenenti a diverse culture o possessere di abilità e disabilità a vari livelli la società agli atenei oggi lancia una sfida la formazione passa attraverso l'apprendimento inclusivo cos'è? si tratta di una didattica interattiva che ponendo l'allievo al centro dell'azione ha lo scopo attraverso un percorso individualizzato di consentire a tutti i discenti di raggiungere un apprendimento e una formazione permanente esprimendo al massimo il potenziale che ha dentro di sé perché come sappiamo non esiste una metodologia unica oggettiva valida per tutti gli studenti perché ogni allievo è protagonista del suo progetto di vita e pertanto il docente conosciuti i suoi discenti dovrà scegliere per ognuno di loro lo stile di apprendimento più adatto al docente universitario inclusivo si richiede che cosa ricerca innovazione e cura della propria crescita culturale del proprio bagaglio formativo acquisizione di ulteriore abilità e competenze elaborazione di progetti innovativi queste nuove competenze si svilupperanno solo se egli farà sua l'idea di un'università intesa come comunità di apprendimento luogo in cui siamo coinvolti tutti gli interessati al processo formativo studenti docenti operatori scolastici se si farà promotore dell'inclusione e se saprà scambiare pareri dubbi impressioni chiedere consigli ai colleghi si avrà l'umiltà di farsi insegnare come dice proprio il professor Smailor il formatore non è un indirittinatore egli deve formare dare forma realizzare un percorso formativo che rimarrà con gli studenti per tutta la vita il suo lavoro a questo punto sarebbe in mane e sarebbe opportuno secondo me che il docente universitario nella sua azione formativa sia affiancato da figure capaci di curare ad esempio il monitoraggio del lavoro svolto sono figure nella cui formazione la politica dovrebbe investire di più nei numerosi anni di attività presso la scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti con sedia a Taranto che dirigo dove opera un team di professionisti che promuovono costantemente iniziative di studio ricerca percorsi formativi italiani e europei abbiamo capito che studenti e professionisti devono essere protagonisti del processo di apprendimento regolato dall'efficienza dalla qualità e dalla semplicità nella fornitura dei servizi lo scopo della scuola è quello di formare professionisti che siano in grado di affrontare le nuove sfide del mondo del lavoro sviluppando competenze professionali gestendo e motivando team ad altre prestazioni la nostra offerta consente a studenti e professionisti di poter scegliere il percorso formativo più attinente alle proprie competenze e alle proprie esigenze professionali offriamo vale tipologie di corsi dai corsi professionalizzanti che aiutano i giovani a trovare in breve tempo un posto di lavoro sul territorio grazie anche alla stretta collaborazione con aziende locali di diversi settori disponibili a offrire loro l'opportunità di seguire un tirocinio fino anche ai master universitari internazionali il professor Antonio Ricchio anche molti dei professori qui presenti si ricorderanno quando nel 2018 con diverse collaborazioni con Spagna e America Latina abbiamo realizzato un master in economia aziendale portando la partecipazione di più di 950 iscritti attraverso questi master eroghiamo che cosa formazione di qualità in cooperazione con diverse università italiane e consentiamo agli studenti stranieri di partecipare a concorsi interni nelle aziende in cui già lavorano nel programma Erasmun Plus abbiamo elaborato il progetto Safes for Green basato sulle più recenti richieste del mercato del lavoro mira a far acquisire competenze pratico teoriche necessarie per emergere un mondo in crescente competizione scopo del progetto è formare protagonisti capaci di lavorare non solo a livello locale ma anche a livello internazionale per seguire tirocini in diversi paesi della comunità europea come Spagna Germania Irlanda e Belgio ritengo e concludo che la politica la formazione e il lavoro siano strettamente collegate e che la politica non deve demandare tutto come è venuto negli ultimi 30 anni alla professionalità all'abnegazione all'innamoramento dei docenti per la loro missione faccio mia la definizione del professor Smailor sull'insegnamento ma deve progettare un piano proiettato nel futuro che sia di ampio respiro ben strutturato e visionario investire seriamente nella formazione di docenti e allievi rinnovare strutture incoraggiare chi si impegna a valorizzare la formazione al di fuori delle aule universitarie quello della formazione infatti è un lavoro che non si esaurisce con l'università ma dura nel tempo attraverso un continuo apprendimento perché il suo compito è quello di accendere elementi grazie bellissimo intervento ti ringraziamo molto abbiamo preso anche qua molti appunti è il momento di chiudere il tavolo in bellezza l'abbiamo ringraziato tutti più volte ma consentitemi ancora di dire grazie al presidente dell'ANVUR e membro del board osservatorio ADR il professor Antonio Felice Uricchio prego grazie innanzitutto per questa occasione veramente unica per ritrovarci per riprendere anche un percorso e per poi anche attribuire un meritato riconoscimento al direttore del dipartimento ionico al professore Pardolesi abbiamo richiamato le origini dell'osservatorio ADR io sono testimone e partecipe anche della fase fondativa perché Gianmario Battaglia è stato uno studente della mia università ho avuto il piacere e il modo di conoscere nei suoi anni verdi e poi ho ritrovato anche professionista particolarmente qualificato e confrontandomi io avevo appena scritto un volume sui profili fiscali della mediazione civile che si stava occupando anche di questi temi è un po' maturata l'idea di dar vita ad un osservatorio abbiamo incontrato il subito il professor Ghia Ivan un gruppo di amici e colleghi Francesca io vedo qui con cui ci siamo anche ritrovati abbiamo iniziato a discutere di questi temi della mediazione civile però è emerso subito anche l'esigenza di allargare un po' gli orizzonti perché il tema della definizione delle controverse civili ma potremmo dire anche di altra natura amministrative tributarie eccetera è un tema forte che caratterizza anche il nostro sistema giudiziario ma si pone anche come testa di ponte rispetto anche ad un tema più generale più ampio quello di innovare anche la pubblica amministrazione il modo anche di rapportare i cittadini allo Stato quindi di introdurre strumenti di innovazione sociale che possano contribuire a delineare degli orizzonti più solidi anche in avanti ecco spesso vi vedo qui il generale Giancotti discutiamo con lui già presente del cast di future di futuro di scenari futuri costruire gli strumenti dell'innovazione per preparare i nostri giovani al futuro credo che sia un compito a cui dobbiamo assolvere quindi l'osservatore ha preso anche questa direzione di diventare non solo il luogo di studio e di analisi degli strumenti di mediazione civile ma anche per pensare un po' ad altro per allargare anche gli orizzonti e muoverci su questi temi e quindi sono nate varie esperienze vari studi varie analisi che hanno riguardato temi più disparati che negli anni poi si sono anche consolidati in questo contesto poi abbiamo anche affrontato il tema delicato della leadership che è un tema forte a cui noi dobbiamo guardare anche in avanti e soprattutto degli strumenti anche per preparare e formare i giovani ad affrontare le sfide del domani e quindi è inevitabile che anche partendo magari anche da temi più circoscritti abbiamo dovuto anche affrontare i temi più generali dei modelli formativi degli strumenti anche per poter anche attraverso l'orientamento attraverso anche il consolidamento delle competenze anche intervenire su ambiti importanti del nostro segmento formativo la formazione accademica la formazione professionale la formazione specialistica la formazione anche del mondo anche imprenditoriale in questa prospettiva quindi abbiamo iniziato a confrontarci e discutere e Ivan ci ha anche proposto la traduzione di questo libro e poi anche mi ha chiesto di fare la prefazione un libro che io ho letto con grande interesse nel quale ho ritrovato anche tanti stimoli che peraltro avevo anche raccolto da altre fonti quindi è stata un po' un'azione sinergica e convergente che ci ha anche portati ad affrontare questi temi dei modelli formativi e devo dire che anche nella mia esperienza accademica prima di docente poi di direttore del dipartimento poi direttore e ora di presidente dell'Ambur ho cercato anche di portare anche il mio contributo tra virgolette di esperienza ma anche poi raccogliere anche dalle esperienze maturate quegli stimoli che possono contribuire a migliorare anche i nostri modelli formativi insegnare lo dicevo nella prefazione significa lasciare un segno e formare significa contribuire a dare forma quindi compito di chiunque si approccia all'altro trasmettere per anche consentire all'altro di tenere bene impresso anche l'insegnamento ricevuto e quindi è compito del docente non solo di offrire dei contenuti magari anche di altissimo livello e di altissima qualità ma è compito quello di appunto stimolare lo studente di condurre un percorso insieme di conoscenza e qui diceva Maria Montessori anche io ho citato anche nella parte introduzione che educare è aiutare a incamminarsi nelle strade del futuro portando con sé però un desiderio di bene ecco e allora avvicinarci anche agli altri ai ragazzi gli studenti ai professionisti a chiunque sia a chiunque venga in rapporto con noi significa anche fare insieme questo percorso avviare anche lo studente come lo stesso docente in questo rapporto di reciproca crescita perché appunto insegnare significa anche imparare insegnare significa arricchirsi ma ovviamente l'arricchimento è reciproco di chi diceva e di chi dà e questo percorso comune è un percorso che non può essere improvvisato o lasciato semplicemente anche al caso deve ha delle regole lo diceva Seneca ecco duemila anni fa ecco insegnare e avere delle regole delle regole che devono essere però in qualche modo ritenute un po' lasche ecco non sono le rigidità formali e burocratiche ecco nella mia esperienza dell'Ambur ecco noi abbiamo degli standard internazionali che sono gli ESG europei standard che orientano la costruzione dei percorsi di studio la definizione dei contenuti i requisiti che noi andiamo a verificare quando andiamo ad accreditare però accanto a questa parte necessaria c'è però un'altra parte non scritta che è quella che appunto si combina anche con la passione con l'impegno con la capacità ecco di entrare in un rapporto empatico con l'altro e questo è compito che il docente deve avere e quindi mi è molto piaciuto il libro di 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 quindi ho aderito con entusiasmo all'invito e devo dire anche ha preso molto perché per esempio c'è una parte molto interessante su come deve essere la lezione deve essere semplice in grado di catturare in termini chiari e comprensibili anche il messaggio deve essere inaspettata quindi deve essere in grado anche di generare tra virgolette l'attesa l'interesse e la speranza deve essere concreta fornendo degli elementi anche su cui potersi ritrovare su cui lo studente deve potersi ritrovare deve essere onesta credibile e genuina deve essere emozionale deve essere in grado ecco di fornire degli elementi anche di prova scientifici o culturali ed altro in grado di essere riconoscibili ecco questi aspetti credo che siano molto importanti qualunque sia l'attività a cui il docente è chiamato qualunque cosa insegni noi come Anvur lo pubblicheremo proprio in queste ore abbiamo curato un rapporto ecco l'Anvur non è solo diciamo l'autorità di controllo che bacchetta le università o gli enti di ricerca quando non fanno qualcosa o valuta bene o male i docenti e anche tra virgolette un grande osservatorio che consente attraverso lo studio di fenomeni sociali delle 99 università dei 20 enti di ricerca dei 150 fra conservatori e accademi di guardare con attenzione a un complesso mondo che è quello dell'area education ecco e stiamo pubblicando proprio in queste ore un rapporto sulla professione della docenza sulla didattica innovativa abbiamo coordinato questo gruppo di lavoro con docenti provenienti da tutto il mondo anche ovviamente i docenti italiani e con loro abbiamo iniziato a immaginare la didattica del domani che è una didattica che si combina e si alimenta della ricerca ma che deve avere anche piena consapevolezza di un mondo che cambia quindi delle tecnologie che sono anche queste profondamente diverse ma deve tener conto anche che di fronte a sé c'è uno studente che non è sempre lo stesso che è lo studente dell'oggi e del domani che porta con sé esperienze stimoli e che guarda al docente con una sete di conoscenza che non deve essere mai non deve mai venire meno continuare ad alimentarsi a bere della sete di conoscenza in questo rapporto reciproco credo che sia un compito particolarmente importante a cui siamo chiamati e questo libro ci offre delle chiavi di lettura e tanti anche elementi di riflessione e quindi sono felice per questa giornata anche perché poi ritrovo tanti amici pugliesi non pugliesi che perché qui veramente è stata una bellissima occasione per ritrovarci e soprattutto per riflettere insieme e guardare ecco in avanti da ultimo due piccole considerazioni Massimo Lucidi prima mi fa piacere rivederlo e ritrovarlo perché lui è animatore di uno dei premi sulle eccellenze che poi si terrà a Georgetown e poi con Taranto comune di Taranto abbiamo avviato questo corso sulla leadership perché appunto le università non sono ferme le università guardano sempre avanti e si muovono e devo dire che appunto la sede di Taranto per quanto tra virgolette piccola perché un piccolo dipartimento è molto vitale molto vivace e quindi è pienamente meritato il premio che oggi andiamo ad attribuire a Paolo Pardolesi che oggi guida il dipartimento ionico bene professor Uricchio io la ringrazio la invito a restare qui con noi invito anche il professor Ghia e il professor Ivan Giordano a restare qui con noi il mio ringraziamento al dottor Massimo Lucidi per aver gestito egregiamente ma più che egregiamente questo panel di lavoro lo ringrazio veramente di cuore e mi auguro che sia con noi nel prossimo evento e l'avvocato Domenica Leone e prego di raggiungere qui sul palco l'avvocato Francesca Tempesta e l'ingegner Vincenzo Merianaschi perché adesso 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 l'avvocato Francesca Tempesta ci introdurrà al premio Accendere le menti premio Accendere le menti dedicato alla memoria del professor Alberto De Santis Accendere le menti che mi auguro che possa diventare un premio annuale e soprattutto se effettivamente dovesse istituirsi la giornata nazionale del formatore credo che potremmo dire fra anni di aver dato un contributo un notevole contributo da un punto di vista culturale professor Uricchio se lei professor Uricchio mi scusi se lei professor Uricchio professor Uricchio professor Ghia anche lei se vuole restare qui al tavolo di presidenza se non le spiace nel caso in cui sì ci farebbe molto molto piacere allora avviamo questo panel dedicato al premio Accendere le menti saluto quindi al tavolo di presidenza l'ingegnere Vincenzo Merianaschi l'avvocato Francesca Tempesta il dottor Ivan Giordano l'avvocato Lucio Ghia e il professor Antonio Uricchio Francesca Tempesta la parola è tua fondatrice dell'osservatorio non scappare battaglia dovresti stare qui con me per parlare di questo premio perché non poteva che essere dedicato alla memoria di un grande uomo per noi per dico noi e per questo devi essere presente qui accanto a me era il nostro secondo papà era il papà ufficiale dell'osservatorio ma era il nostro secondo papà perché non ci lasciava mai ha partecipato a tutti gli eventi in tutte le condizioni fisiche in cui si trovava e in tutte le città d'Italia in cui l'abbiamo organizzato era sempre aveva sempre una parola una parola buona un incoraggiamento forte una pacca sulla spalla anche nei momenti più difficili in quelli dove insomma anche noi iniziavamo ad accusare un po' di stanchezza ci ha dato sempre quella forza di andare avanti di continuare a portare alte le nostre idee e i nostri progetti per cui sono emozionata ma si sente di dedicare questo premio e questa giornata alla sua memoria perché onestamente ci manca molto la sua presenza era forte amava definirsi diversamente giovane ed era effettivamente così a questo punto abbiamo realizzato un video e direi di avviarlo riguarda proprio la figura del professor Alberto De Santis che ricordiamo veramente con affetto io mi occupo di socio sanità e socio assistenza bene io sono orgoglioso di partecipare all'ADR proprio perché mi sono reso conto che l'innovazione nel welfare è importante due giovani come Francesca Tempesta e Gianmario Battaglia che hanno ideato messo in piedi questa magnifica organizzazione e hanno coinvolto un vecchio diversamente giovane in questa in questa avventura i 240.000 posti letto comporterebbero 300.000 posti di lavoro per i giovani si continua a parlare che formiamo delle belle intelligenze e poi ce le facciamo scippare è ora di interrompere questa catena negativa i nostri giovani devono rimanere a lavorare qui la civiltà di una nazione si vede da come tratta i bambini e gli anziani in ogni tempo in ogni luogo ci sono vecchi dalla fronte sottile che indicano ai giovani la via con gesti di cemento armato in ogni luogo la tolleranza significa l'accettazione delle idee diverse il visionario è quello che vede lontano i cari ragazzi conservate le vostre emozioni sono momenti topici della nostra vita apparentemente sembra senza significato ma il termine usare è un termine sacro che insieme all'altro trinomio sapere volere osare e tacere i nostri antenati hanno basato il successo dell'individuo su questi quattro termini emozionante ok andiamo avanti Alberto De Santis quindi è con noi e ci ha dato la spinta a organizzare questo questo premio la prima edizione del simposio nazionale introduco io l'intervento di Vincenzo Naschi perché personalmente ha avuto anche lui l'opportunità il privilegio di conoscere Alberto con il quale ha instaurato un rapporto anche legato al territorio al suo gioiello di cui adesso ci parlerà Salve buongiorno a tutti è molto emozionante risentire le parole di Alberto io l'ho conosciuto non l'ho conosciuto molto come probabilmente altri di voi però devo dire che mi ha sempre colpito la passione con cui ha affrontato tutti i principali step della sua vita la combinazione che mi lega con Alberto è che lui era molto legato a un territorio in Umbria vicino a Spoleto dove io ho avuto la fortuna negli ultimi vent'anni di costruire una struttura una struttura ricettiva che tra l'altro con molto piacere ho messo a disposizione del premio e quindi questa cosa ci ha ulteriormente legata una struttura legata al concetto dei borghi si parla molto in Italia soprattutto negli ultimi anni PNRR ristrutturazione dei borghi i borghi italiani che dovrebbero essere un po' la testimonianza del turismo italiano di fronte agli stranieri ecco noi in realtà quest'operazione l'abbiamo già fatta perché abbiamo preso un castello del 1100 proprio un castello con le mura un vero castello medievale e un monastero del 1300 l'abbiamo messo insieme abbiamo ristrutturato abbiamo creato una struttura ricettiva dove io dico sempre che si vive la storia dal di dentro perché le mura le pietre il panorama testimoniano un mondo che diciamo non c'è più in un certo senso e questa è una cosa che ha coinvolto me e la mia famiglia negli ultimi vent'anni Gian Mario mi ha chiesto di poter diciamo mettere a disposizione del premio anche l'opportunità di un periodo all'interno della nostra struttura io con molto piacere ho aderito in virtù dell'amicizia che ci lega e della conoscenza di tutti questi anni grazie non vi tedi ulteriormente per chi volesse venire metto le cartoline qui sul tavolo di presidenza quindi sono a disposizione di tutti per poter visitare questo posto bene e viva e viva e viva basta con l'emozione e allora adesso celebriamo il vincitore del premio il professor Paolo Pardolesi responsabile del dipartimento ionico di Taranto per il lavoro egregio che sta facendo sul territorio di Taranto perché in questi anni ha messo in contatto il mondo dei discenti universitari col mondo imprenditoriale ha cercato di fare sistema quindi ha cercato di creare le condizioni affinché il territorio di Taranto l'università di Taranto potessero divenire un elemento di eccellenza del nostro sud Italia noi ne abbiamo necessità e quando io ho proposto al board la figura di Paolo Pardolesi come primo premiato del premio accendere elementi ho ricevuto i consensi unanimi di tutti e quindi invito qui sul palco il professor Paolo Pardolesi al quale consegneremo ufficialmente il premio se il professor Antonio Ricchio e l'avvocato e il dottor Ivan Giordano volessero materialmente consegnare il premio ne sarei contento e Paolo ti do la parola auguri continuo grazie prima prendi un premio vero caro caro professore abbiamo anche quindi il premio Borgo Campello lei riservato messo a disposizione dall'ingegner Vincenzo Maria Maschi è una giornata di festa una giornata di festa per tutti noi mi chiedono la possibilità se potete di fare le foto se è possibile ecco se mettersi davanti in modo tale qui spezziamo un'emozione ancora con un altro applauso velo qui in platea un giovane avvocato Luigi Viola che fu vincitore di un premio anni fa proprio consegnato dal professore Alberto De Santis e devo dire a distanza di tempo quel premio è stato ben ben scelto perché probabilmente molti di voi lo sapranno il professore Luigi Viola oltre a essere in testa a tutte le classifiche di vendita del suo ultimo libro sull'intelligenza artificiale ha effettivamente realizzato la prima in Italia la prima intelligenza artificiale nel settore giuridico che si chiama giurimatrix al quale faccio i miei complimenti di tutto l'osservatorio di ieri e adesso ti lascio volentieri la parola grazie Gian Mario buongiorno a tutti io sono travolto dalle emozioni inevitabile tra l'altro anche un premio che viene dedicato al professor De Santis un momento davvero toccante è bellissimo e sono parto così onorato e felice perché ricevere un premio così prezioso accendere le menti ispirato a un bellissimo volume quello del professor Ray Smiler e per il quale ringrazio l'osservatorio ADR Giammaro Battaglia Francesca Tempesta Ila Giordano sono stati fantastici accoglienti e inclusivi poterlo fare in qualità di direttore del dipartimento ionico in sistemi giuridici economici del Mediterraneo società ambiente e cultura io dico sempre tutta la dicitura un dipartimento che fa dell'interdisciplinarietà e della contaminazione dei saperi il suo cuore pulsante è ancora più bello e vi spiego perché oggi non è soltanto una ghiotta occasione di riflessione culturale scientifica ma è anche un momento di condivisione io lo condivido con tutta la squadra del dipartimento ionico sono presenti tanti colleghi sono venuti da Taranto ed è un momento importante perché senza di loro tutto quello che abbiamo fatto in questo anno e tutti gli obiettivi che ci eravamo dati in questo lungo anno in cui sono stato esattamente l'anno scorso in questo periodo eletto direttore del dipartimento non sarebbero stati in qualche modo neanche lontanamente avvicinabili e in particolar modo un obiettivo quello di fare del dipartimento non solo ciò che è per DNA cioè un posto è un luogo di formazione di ricerca di alto profilo ma un vero e proprio hub culturale un hub culturale in grado di realizzare un ponte prezioso con tra il mondo accademico quello della innovazione sociale della creatività dell'imprenditorialità tutte tematiche toccate da Rils Mallor e all'insegna della valorizzazione del territorio un territorio straordinario il territorio ionico che invito tutti a visitare e della valorizzazione dei giovani in questo anno abbiamo realizzato tante iniziative tanti eventi in sinergia con molte istituzioni col mondo imprenditoriale io parlo sempre di sinergia empatica perché le istituzioni le imprese le associazioni gli ordini professionali sono composte da persone quando c'è empatia lo abbiamo sentito oggi anche gli obiettivi più ambiziosi possono essere realizzati non dico con facilità ma molto più semplicemente e tutti questi eventi iniziative sono trasversali sono stati trasversali interdisciplinari ma tutti collegati dalla volontà forte ferrea di valorizzare i giovani protagonisti assoluti lo sono stati per esempio ve ne cito qualcuno il Green Blue Days sullo sviluppo sostenibile arricchito da Agora Talks Exhibition il Taranto Innovation Summit sei giornate di intenso dialogo tra il mondo accademico universitario il mondo imprenditoriale e il mondo delle start up con due giornate di sfide affascinanti tra start up provenienti da varie parti d'Italia ed Europa il Taranto un hackathon che abbiamo fortemente voluto per valorizzare le capacità progettuali dei nostri giovani studenti dell'università con gruppi misti di studenti provenienti dal quarto e quinto liceo e infine la creazione di un posto a me particolarmente caro che è la Community App un luogo di coprogettazione di co-working nel quale noi valorizziamo cerchiamo di valorizzare tutte le intuizioni dei nostri giovani attraverso un dialogo pratico professionale col mondo accademico ma anche col mondo imprenditoriale e il mondo istituzionale un incubatore naturale di idee per implementare le quali abbiamo anche chiuso delle importanti convenzioni con acceleratori come Faros per esempio il primo acceleratore della Blue Economy che ha lanciato una call che si concluderà a fine febbraio a cui partecipano più di 220 start up e allora tutte queste iniziative vengono da lontano vengono e affondano le loro radici in un obiettivo più ambizioso più grande meraviglioso quello cioè di cambiare far metabolizzare implementare un nuovo messaggio concernente il territorio ionico Taranto la città di Taranto non più solo come spesso si sente nei social media realtà resilienti o che avanzano dei crediti in virtù dell'ILVA ma come terra di grande opportunità per i giovani e in questa direzione si colloca nel tempo quando è nato il dipartimento ionico la ferrea volontà di Antonio Ricchio che allora è stato il primo direttore del dipartimento ionico successivamente rettore lo ha detto anche lui adesso presidente del Lambur e soprattutto lui sì vero formatore nell'accezione cara Ray Smiler cioè formatore che fa saltare lo status quo perché è un imprenditore accademico in grado di riuscire a valorizzare i giovani attraverso i suoi momenti le sue capacità esperienziali e allora Antonio ha voluto fortemente in quell'occasione che il dipartimento ionico avesse la sua sede nella città vecchia che era inaccessibile all'epoca perché le sue parole era l'occasione per farne il cuore pulsante di tutto quello che potevano essere le sinergie empatiche tra il mondo istituzionale comune provincia regione mondo imprenditoriale e tutta la cittadinanza e in questa ottica abbiamo lavorato l'impatto di queste sinergie sono concrete sono fortissime io faccio un rapidissimo esempio con la vicenda concernente il nostro dottorato un dottorato giovanissimo nasce nel 2016 un dottorato interdisciplinare qualcuno diceva è un azzardo potrebbe essere un pasticcio invece noi avevamo l'idea che sarebbe stato un valore aggiunto la possibilità di guardare le tematiche di ricerca con sponde differenti area giuridica area economica area umanistica che dialogano tra di loro ebbene nasce con quattro sole borse di studio due finanziate dall'università degli studi di Bari e le altre due rispettivamente da un'impresa locale italcave e dalla provincia di Taranto quindi mondo imprenditoriale e mondo istituzionale che credono nella possibilità di svolgere ricerca di alto profilo a Taranto nel territorio ionico mai scelta è stata più lungimirante in soli 5 anni nel 2021 nel corso del 37esimo ciclo siamo stati in grado di mettere a sistema ben 20 borse di dottorato due soltanto finanziate dall'università degli studi di Bari e realizzando il più grande upgrade tra i 21 dottorati univa e questo non è dovuto solo alle expertise dei docenti che compongono il collegio alle capacità permettetemelo di dire ogni tanto davvero rimarchevole di alcuni nostri dottorandi e dottorande ma anche e soprattutto a queste sinergie empatiche a questo supporto da parte delle istituzioni da parte del mondo imprenditoriale che hanno creduto nella possibilità di valorizzare quel meraviglioso laboratorio a cielo aperto che è Taranto che è dato il territorio ionico attraverso le progettualità dei giovani dottorandi e dottorande questo ci ha consentito di rispondere presente a una serie di sfide di carattere nazionale internazionale con progettualità che io definirei ardite affascinanti sono stato coordinatore di dottorato fino all'anno scorso e mai avrei immaginato di implementare diciamo così una progettualità articolata dal punto di vista interdisciplinare tra il diritto privato e la matematica l'informatica e il diritto del lavoro la pedagogia e l'analisi economica l'economia aziendale e il diritto commerciale beni culturali e diritto penale ebbene allora in questo quadro e vado alla conclusione perché non voglio proteggere nessuno in questo quadro però noi siamo consapevoli che occorre fare un ulteriore sforzo perché per chiudere quel circolo virtuoso di sviluppo culturale sostenibile che è imprescindibile per attuare quel messaggio di cambiamento di cui vi ho parlato prima occorre fare un altro passo noi formiamo i giovani li mandiamo all'estero li consentiamo di acquisire expertise presso imprese nazionali internazionali ma poi l'altro passo è credere e investire nelle loro idee nelle loro intuizioni nella loro vision che spesso può apparire a noi enigmatica ma è maledettamente efficace e solo così solo così l'abbiamo parlato oggi è possibile pensare di riportarli a casa per essere profeti in patria quindi questo premio meraviglioso per cui io ringrazio in nome di tutto il dipartimento ionico è un premio che ci dà stimolo voglia davvero voglia di lavorare in questa direzione con grande energia ed entusiasmo nei prossimi mesi e nei prossimi anni grazie ci auguriamo quindi che questo premio sia fuoriero veramente di successi nei prossimi anni ringrazio ringrazio l'ingegner Vincenzo Merianaschi l'avvocato Francesca Tempesta il professor Ivan Giordano l'avvocato Lucio Ghia e il professor Antonio Felicio Ricchio e adesso daremo vita a un secondo panel di lavoro invito qui il professor Ivan Giordano a restare sul palco perché incomincieremo tra brevissimo a trattare del secondo panel della giornata che è un panel della giornata che riguarda accendere elementi nel settore della giustizia sarà qui con noi tra poco l'avvocato Decio Mattei membro del board dell'osservatorio ADR nonché avvocato dello studio Gianni Origoni e ci raggiungerà a brevissimo anche il vice ministro alla giustizia Francesco Paolo Sisto che è stato delegato dal ministro Nordio a partecipare al nostro evento e noi ne siamo particolarmente onorati quindi chiedo cortesemente all'avvocato Decio Mattei di raggiungerci qui sul palco chiedo al professor Ivan Giordano di accomodarsi e faccio una sorpresa a un membro qui della nostra patea chiedo cortesemente al dottor Tommaso Marvasi di raggiungerci qui sul palco perché il dottor Marvasi è il presidente dell'osservatorio ADR al quale ringraziamo in questi anni di aver sempre sostenuto le nostre iniziative lui non se lo aspettava perché è sempre stato silente ma ci ha sempre guardato con sguardo vigile e non si aspettava che oggi sicuramente lo invitassimo qui sul palco al quale cedo la parola per un saluto mi ha fatto questa sorpresa Gian Mario sa che non mi piace intervenire così mi piace seguire saluto Francesca che ancora non l'aveva visto e devo ringraziarli soprattutto ovviamente qui abbiamo i tre ragazzi anzi direi i quattro perché comprenderei anche il professor Ricchio tra i ragazzi che i tre che hanno fondato questo osservatorio e che ci hanno coinvolto io volentieri ho messo a disposizione quello che potevo cioè soltanto la mia esperienza ultra quarantennale di magistrato e devo dire che sono felicissimo anche della ripresa dei nostri convegni dei nostri incontri e della ripresa col libro appunto di Smilor devo dire che per fortuna le menti dei nostri ragazzi sono rimaste sempre accese dall'inizio fino adesso e quindi questo si rivolge ovviamente a tutto il resto quello che ho sempre apprezzato dell'osservatorio è proprio questa attività sempre intensa e soprattutto lo sguardo verso l'innovazione sociale il primo argomento che abbiamo trattato è sempre stata la mediazione e in questo ci siamo impegnati tantissimo tutti quanti soprattutto appunto i ragazzi e abbiamo raggiunto quell'obiettivo importante che voi tutti ricordate della Prasti Uni sulla mediazione che è stata veramente un primo traguardo raggiunto con l'entusiasmo di sempre e con un grandissimo impegno di tutti e soprattutto di Ivan che è diventato uno dei mediatori secondo me più importanti d'Italia e che ha seguito sempre con un grande impegno nel libro di Smellor poi sì non l'ho ancora letto vi confesso perché l'ho avuto oggi però ho già visto qual è il senso e il senso che ha sempre connotato anche i nostri incontri cioè la mediazione l'innovazione che parte sempre da un'acquisizione di dati ma i dati devono essere sempre trattati dall'uomo e l'uomo la parte più importante anche con tutte le innovazioni sociali adesso ci avviamo anche nella giustizia a utilizzare l'intelligenza artificiale ma ecco che la cosa più importante è che ci sia dietro la passione e ci sia dietro l'umanità cioè la considerazione sempre che quando noi giudichiamo abbiamo di fronte uomini abbiamo di fronte persone infatti uno degli insegnamenti più importanti che ho avuto da mio padre la mia famiglia di tradizione di magistrati mi ha sempre detto ricordati sempre qualsiasi giudizio qualsiasi cosa che sia civile o penale che tu hai di fronte una persona e non hai soltanto quella persona hai quell'uomo hai la sua famiglia hai tutta il suo circolo di amici di amicizia ecco perché purtroppo abbiamo assistito da parte purtroppo di miei colleghi che questo non l'hanno considerato e hanno inciso pesantemente sia su delle famiglie che sulle aziende e anche soprattutto io parlo della mia Calabria per esempio dove per carità la lotta all'Andranito è stata sempre importantissima e si sono ottenuti dei grandissimi risultati ma non sempre si è agito con la dovuta prudenza e purtroppo ne hanno risentito alcune comunque non voglio tediarvi oltre a questo vi ringrazio ringrazio di avere riacceso anche la mia mente in questo caso chiamandomi qui buon lavoro e buon proseguimento siamo noi che dobbiamo ringraziare te caro presidente allora ci sta per raggiungere il vice ministro alla giustizia Francesco Paolo Sisto che adesso si trova a colloquio con il ministro nordio ci raggiungerà in corso d'opera e quindi io direi comunque di avviare il pannello dei lavori ufficialmente con il dottor Ivan Giordano sul tema accendere le menti nel sistema della giustizia prego a lei la parola grazie ancora innanzitutto mi collego alle parole del presidente Marvasi che ringrazio perché il tema della mediazione civile declinato all'interno della PDR 1 98 20 20 la prassi di riferimento 1 è stato antesignano di alcune parti della riforma cartabia l'obiettivo del tavolo tecnico che stiamo avviando in questo momento è quello di porre un faro su alcune criticità che possono sicuramente fare parte della fisiologia degli eventi arriva un'importante riforma la riforma non interessa soltanto le ADR e la mediazione civile ma in generale il sistema giustizia la riforma è una riforma annosa questo significa che da un lato deve essere scaricata a terra deve essere implementata che tutti gli ingranaggi devono incominciare a girare nella maniera funzionale a che la riforma generi i propri effetti anche con riferimento alle performance legate al PNRR e che sia l'apparato amministrativo quindi parlo della burocrazia all'interno del del ministero della giustizia sia chi ha la delega a amministrare la giustizia anche una delega di natura privatistica penso agli avvocati penso agli organismi di mediazione che sono abilitati allo scopo ma che operano come soggetti privati sul mercato e lo fanno in forza di un'abilitazione di un'iscrizione a un albo di un accreditamento dell'iscrizione all'elenco degli organismi di mediazione la norma primaria la riforma cartabia nella parte che trattava il tema della mediazione civile è entrata in vigore in due momenti quindi il 28 di febbraio e il 30 giugno di quest'anno in maniera palese delegava a decreti ministeriali una parte della sua attuazione ecco è noto a tutti sia ai mediatori presenti che agli avvocati che a tutti gli operatori della giustizia che in maniera un po' probabilmente maldestra è stata anticipata una parte dell'entrata in vigore che ha coinvolto la mediazione al 28 febbraio e probabilmente al 28 febbraio non era prego Gianmario il cavaliere Cacucci ci dovrebbe lasciare a breve quindi vorrei ringraziarlo della sua presenza e vorrei che venisse qui sul palco per un saluto e vorrei che lo presentassi in pompa magna giustamente in pompa magna riprenderò da dove sto lasciando perché devo personalmente ringraziare il cavaliere Cacucci di avermi consentito di aver fatto la sua conoscenza perché per me è stato un onore veramente un grande onore il cavaliere Cacucci ha onorato della sua presenza la giornata di oggi e ha contribuito e sta contribuendo come ha già fatto in passato ma in questo caso devo dirlo declinato nelle attività dell'osservatorio nella realizzazione di quella che abbiamo l'ambizione possa diventare una rivista scientifica classificata in classe A presso Anvur in temi giuridici e che sarà edita dalla Cacucci Editore e questo è il progetto che ci vede coinvolti di questo siamo orgogliosi di questo siamo grati di questa grande opportunità Cavaliere grazie per la sua presenza e per l'opportunità che ci sta dando grazie a voi oggi è stata per me una giornata molto interessante perché questo seminario sull'accendere la mente per me è stata una cosa molto interessante perché io ho come dire una preoccupazione sull'intelligenza artificiale che mi va bene come valore aggiunto però le menti si stanno atrofizzando quindi questa formazione che voi fate serve proprio avere rapporti come diceva giustamente l'Avvocato Ghia che siamo usciti da questo terpore dalla pandemia adesso riprendiamo il rapporto con la gente con gli studenti perché è importante in quanto oggi purtroppo come diceva la gente non parla più io quando vado in treno che vengo spesso a Roma non vedo una persona che legge un libro non si parla più quindi allora grazie a voi di questa veramente grande idea che avete avuto che però bisogna portarla avanti con molta insistenza e quindi grazie anche alle università che devono collaborare perché la presenza oggi è molto importante perché anche questa università telematica utile però non c'è rapporto epidermico perché ai tempi miei quando un docente spiegava guardava sul viso il discente e mi ricordo che mi ricordo io quando frequentavo la lezione del professor Cassandro di Regione io mi mettevo sempre i primi banchi in un certo momento mi distrassi per alcune cose allora dissi professore ma lei non è attenta oggi cioè il docente se ne accorge subito se lo studente non partecipa alla formazione della lezione perché è importante quindi auguri buon lavoro grazie al professor Antonio Riccio che veramente è un grande professore in tutti i sensi a previso culturale giuridico e di tutto è umano prima cosa bene grazie a voi e io fra dopo la relazione dal viceministro vado via perché parto subito noi ci sentiamo poi subito a Bari grazie chi non mi conosce sono barese la mia azienda Cacucci di Tor dal 1929 con un riconoscimento come casitrice storica quindi grazie e buon lavoro grazie grazie al cavalier Cacucci che ha accolto sin dalle prime battute della proposta di realizzazione della rivista scientifica questo importante progetto l'ho accolto e ne consentirà l'avvio dell'iter per la sua realizzazione grazie al professor Uricchio sia per il bellissimo rapporto umano che si è instaurato in questi anni per l'enorme generosità professionale e per avere dall'altra parte accolto lato accademico la possibilità che questo progetto possa realizzarsi e noi faremo di tutto perché ciò possa avvenire e avvenire con grande soddisfazione grazie ancora riprendo da 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 dove avevo lasciato il tema peraltro è molto legato quello del progetto della rivista scientifica e che tratterà di ADR e di tributi perché proprio con riferimento alla modalità con cui il ministero ha teso ad accompagnare gli operatori delle ADR alla migrazione pre-post Cartabia ad aprile di quest'anno è stata veicolata tra gli organismi di mediazione una PEC che non aveva le caratteristiche di circolare non aveva le caratteristiche di atto che avesse una certa ufficialità rappresentava comunque una comunicazione formale fra l'ente accreditante e i soggetti privati accreditati con le possibili conseguenze del caso che vanno dalla sospensione alla cancellazione eccetera questa PEC ha di fatto elencato quelli che sarebbero potuti essere che sarebbero stati se non fosse stata revocata e che sarebbero potuti essere i contenuti di un decreto ministeriale attuativo volto proprio a dare esecuzione alle novità introdotte dalla riforma cartabia ora all'interno di questa PEC si sono elencate una serie di caratteristiche e si sono elencati una serie di requisiti che avrebbero inevitabilmente spazzato via nel giro di pochi giorni perché era dal 6 di aprile al 30 aprile organismi di mediazione che hanno contribuito alla deflazione del carico giudiziario con le difficoltà dei primi tempi e con i successi che progressivamente si cominciano ad apprezzare negli ultimi anni e quindi che hanno anche come si direbbe in economia e non in diritto posto in atto dell'economia di apprendimento questa PEC l'avrebbe spazzata via ora qualche mente illuminata probabilmente ha accolto il messaggio accorato degli operatori del settore la PEC è stata revocata e a quel punto si era in attesa di un più concreto funzionale e applicabile decreto ministeriale oggi è il 14 di settembre siamo nelle aule rappresentative del Parlamento il governo ha una delega attraverso i decreti ministeriali a porre in atto qualcosa che gli organismi di mediazione che vedono nell'osservatorio un punto di riferimento devono porre in atto in parte dal 29 febbraio ma soprattutto dal 30 di giugno che stiamo operando senza decreto ministeriale allarmati dalla PEC del 6 aprile confortati dalla revoca che è arrivata pochi giorni dopo e ad oggi noi siamo senza il decreto principe perché dico il decreto principe perché in realtà il contenuto di quella PEC sembrerebbe essere stato diviso in tre differenti decreti ministeriali due sono prevenuti ma sono quelli da un punto di vista operativo meno utili perché sono quelli sulla gestione dei decreti d'imposta che peraltro avrà effetto sull'anno in corso l'anno prossimo perché vanno in dichiarazione dei redditi e quelli sul patrocinio carico dello Stato o barra gratuito c'è un problema di terminologia anche da applicare rispetto a chi ricorre alla mediazione in questo caso devo dire che chi ha diritto ad accedervi è giusto che possa averne diritto il prima possibile ma operiamo con delle tariffe le cosiddette tariffe del vecchio DM di un DM cessato e non possiamo applicare le presunte tariffe di un DM che è veicolato in bozza che non ha completato il suo percorso in Consiglio di Stato e che oggi ancora non si sa se è qualcosa che potrebbe arrivare da qui a pochi giorni oppure no ora per dirla breve tutti gli organismi di mediazione in Italia pubblici e privati sono sospendibili e revocabili perché stanno operando senza la vecchia norma e senza la nuova norma avremmo dovuto chiudere al 30 giugno in attesa di riaprire non appena il DM sarà disponibile non si sa se dovremo assumere un dipendente ogni 100 procedimenti di mediazione se la formazione dovrà transitare attraverso docenti che avranno un numero che avranno maturato un numero di contributi scientifici che probabilmente in questo momento in Italia appartengono solo a 3-4 persone ora non si capisce cosa abbia indotto la produzione di quella PEC e invece è un po' più chiaro che cosa stia inducendo il forte ritardo nella redazione di un decreto ministeriale che poi potrebbe essere in qualche modo oggetto di ricorsi e pertanto occorre che sia il più funzionale e il meno attaccabile possibile ho avuto l'occasione di invocare parlando direttamente con il Vice Ministro un dialogo tra il Ministero e gli operatori che il Ministero accredita è come se non esistesse un dialogo tra il MIUR e le università private è la stessa cosa l'ANVUR monitora le performance delle università pubbliche quanto private immagino che si attenga ai criteri di valutazione previsti alla legge e poi nel trattamento di queste verifiche non abbia due pesi e due misure in base all'interlocutore che ha davanti ora devo dire che neanche il Ministero ha due pesi e due misure perché non ha pesi né misure nel senso che esiste un muro e non c'è dialogo tra gli operatori e ora io probabilmente mi piacerà provare a interloquire con il il property di alcune università private per capire se hanno un dialogo sono poche peraltro numericamente se hanno un dialogo aperto col Ministero che li accredita perché penso che per poter lavorare non con un approccio medievale quale è io sono l'ente che ti abilito e verrò a relazionarmi con te soltanto quando ti controllerò e se ti va bene non saprai com'è andata se ti va male ti manderò una sospensione o una revoca perché non arrivano i verbali di esito delle ispezioni tutti noi abbiamo subito delle ispezioni noi ne abbiamo subite diverse le abbiamo tutte superate non abbiamo l'esito dell'ispezione in maniera tale che uno possa migliorarsi sulle aree di miglioramento perché è impossibile che uno non abbia aree di miglioramento magari non ha avuto non conformità ma per forza ha aree di miglioramento ecco l'esempio dell'implementazione della riforma cartabia usando un termine che non è economico come implementazione e non è giuridico come sarebbe entrata in vigore ma è più come dire gergale scaricare a terra la riforma cartabia richiede inevitabilmente un dialogo attivo e costante tra gli enti accreditati e le istituzioni allora trovandoci in un'aula del Parlamento e avendo tra i nostri relatori sia il sostegno che la partecipazione del Ministero della Giustizia sarebbe sufficiente poterci lasciare a seguito di questo evento con un impegno al dialogo che non sia un impegno al dialogo politico che sia un impegno al dialogo tecnico cioè che possa esistere un tavolo permanente di dialogo che non è un tavolo permanente tra il Ministero e il Sindacato degli operatori della mediazione volto a creare qualche piccolo miglioramento a favore di una categoria non è questo che si sta dicendo perché altrimenti sarebbe una distorsione legata quasi corporativa in realtà sto parlando semplicemente di operatori accreditati che vorrebbero avere delle risposte circa come quotidianamente operare per evitare di essere a sanzionati e di poter svolgere in maniera corretta e inequivocabile la propria attività ma io vi sto parlando di come applicare le tariffe quali scaglioni applicare e cosa si intende per determinate sfumature delle materie che sono clasterizzate e classificate all'interno del DM ma hanno delle aree grigie l'appalto e la prestazione d'opera è palese in certi contesti ma in certe realtà contrattuali sono sfumatissime prevale spesso la sostanza sulla forma quindi capire avere un interlocutore concreto dall'altra parte che possa dare delle risposte operative e che non sia come dire la cassa di risonanza di istanze sindacali perché non è questo che si vorrebbe ottenere sarebbe un semplicissimo e banale passo avanti che consentirebbe di accelerare il percorso di implementazione degli effetti che sicuramente potranno essere importanti per le ADR della riforma cartabia Allora io credo che questa questa tua interlocuzione tu la puoi sapere a breve perché il vice ministro ci sta per raggiungere non abbiamo ancora un orario preciso cioè il tempo preciso dell'arrivo però noi adesso andremo avanti e quando arriverà il ministro tu potrai porgli direttamente la domanda io adesso cedo volentieri la parola all'avvocato Decio Nicola Mattei che è membro del board dell'osservatore ADR e che interviverà sugli aspetti della riforma cartabia nel processo civile e in particolar modo anche sulle criticità Buongiorno a tutti grazie molto Gian Mario per per la presentazione e ovviamente anche per la possibilità di spendere qualche parola nel corso di questo semplice seminario sulla riforma cartabia e devo dire che il titolo del seminario accendere le menti nel sistema giustizia è assolutamente attuale come tutti noi sappiamo uno dei profili di criticità che ci vengono mossi dagli investitori internazionali e soprattutto quello della lentezza del processo civile della farraggenosità del processo civile delle complicanze del processo civile e io che quotidianamente mi trovo a confrontarmi con clienti soprattutto internazionali che investono in Italia i quali prima di effettuare qualunque tipo di investimento mi chiedono se poi dovessimo avere un problema di natura giudiziaria o se non fossero rispettate le garanzie o se non fossero rispettate le caratteristiche o le peculiarità del bene che stanno comprando o dell'investimento che stanno effettuando quale potrebbe essere la tempistica per avere giustizia e quando io gli rappresento quella che è la tempistica standard per avere una sentenza in cassazione quindi dieci anni non li sento più scompaiono vanno via direttamente non hanno alcun tipo di interesse di investire in Italia preferiscono investire in Francia in Inghilterra in Germania in Spagna ma non in Italia ora io sinceramente non so se il problema giustizia Italia è un problema dettato dai 250.000 avvocati iscritti all'albo dagli 80.000 cassazionisti o dai pochi magistrati che ci sono so per certo che ogni qualvolta si affronta il problema giustizia in Italia si parte dalle soluzioni più semplici ossia triplichiamo il numero dei magistrati e dei cancellieri alle soluzioni un po' più complesse e più complicate che sono quelle della riforma del processo civile devo dire che in questa ottica la riforma cartabia almeno a mio modesto modo di vedere è una riforma che va verso l'accelerazione del processo io ricordo che qualche anno fa venne intervistato prima da Repubblica e poi da Italia Oggi insieme ad altri miei colleghi che si occupano di contenzioso in studi internazionali e che quindi sono abituati a confrontarsi con clienti internazionali e ci venne chiesto venne chiesto un po' a tutti che cosa avrebbe potuto incentivare gli investimenti straniere in Italia alcuni colleghi risposero appunto dicendo che bisognava aumentare il numero dei magistrati altri potenziare le cancellerie altri potenziare l'ufficio del processo di cui già si parlava io invece dissi che queste erano assolutamente idee ben accette sicuramente era un modo per risolvere del problema ma forse bisognava anche un po' svecchiare il processo civile avere il coraggio di velocizzare il processo civile qualche anno fa noi avevamo avuto una splendida riforma che era quella del processo societario in cui appunto si cercava di velocizzare quantomeno il processo societario perché era quello che poi andava a toccare non il problema condominiale non la bega possessoria che poi occupano l'80% delle cause in tribunale ma andava a toccare quel 20% di cause un po' più importanti che scoraggiano gli investitori il processo societario come tutti noi ricordiamo prevedeva appunto uno scambio di memoria prima di andare in udienza per cui le parti si conoscevano si annusavano mettevano sul tavolo tutto ciò che avevano e quindi prima di andare in tribunale o in udienza sapevano già se erano perdenti o vincitori o quantomeno iniziavano a capire se gli conveniva andare in tribunale e poi sostenere tutti i costi che c'erano purtroppo quel processo venne affossato dopo un anno praticamente era troppo complicato c'erano gli scambi delle PEC molti avvocati diversamente giovani ma io stesso ancora oggi faccio mandare le PEC dalla mia segretaria perché ci litigo costantemente con la PEC non amavano quel sistema così innovativo anche da un punto di vista informatico amavano andare in tribunale depositare l'atto vedere l'atto di controparte fare la chiacchierata con controparte quindi quel processo venne immediatamente affossato ricordo che scrivemmo anche un libro che penso abbia avuto pochissime copie vendute perché poi venne immediatamente abrogato ecco e quindi quando il giornalista di Repubblica qualche anno fa mi chiese tu dai ciò che ne pensi come potremmo velocizzare il sistema già c'era il processo societario cioè se tu riesci ad anticipare tutta una serie di attività che il giudice è costretto a fare durante le quali non fa nulla ma inizia ad eliminare qualche udienza che non serve davvero a nulla e inizia ad anticipare lo scambio di memorie molto probabilmente potresti provare a velocizzare il processo civile ed ecco che la riforma cartabia infatti adesso ci mette di fronte a un sistema che prevede la notifica della citazione la comparsa di costituzione del convenuto le tre memorie di 183 oggi chiamate memorie di 171 ter che consentono quantomeno alle parti di capire tutto poi ci sono ovviamente dei profili di criticità proprio l'altro giorno parlavo con un investitore americano il quale mi diceva sì ok adesso allora la mia controparte mi fa causa mi notifica la citazione io ho un certo periodo per costituirmi ma se poi loro con la seconda memoria di 171 mi depositano una consulenza tecnica di parte complicata qual è questa causa noi quanto tempo abbiamo per replicare abbiamo 10 giorni sostanzialmente per replicare no ma non ce la faremo mai non riusciremo mai a difenderci in questo periodo di tempo a fare una memoria di parte una consulenza tecnica di parte ovviamente la mia replica è stata ragazzi guardate che la consulenza tecnica di parte non vuol dire che ovviamente avranno vinto la causa vuol dire che il giudice si convincerà forza che deve disporre una CTU ma poi andremo a depositare le nostre memorie le nostre cose per cui forse se si può muovere una prima critica è forse quella sul contingentamento dei tempi forse riflettere in sede di riforma della legge cartabia mi pare che si sia già discutendo in Parlamento per alcune modifiche della legge cartabia ma appunto il Vice Ministro quando arriverà poi potrà aiutarci su questo forse ampliare un po' i termini e non essere così categorici e così stretti sui tempi soprattutto sulla differenza tra il secondo e il terzo termine finale rispetto alla data di udienza potrebbe consentirci di avere una maggiore possibilità di difesa anche quando ad esempio si passa dal rito sommario al rito ordinario in teoria con la firma cartabia posso introdurre il rito sommario sul presupposto che i fatti non siano controversi o che la causa sia documentale o di facile e pronta soluzione benissimo se io strumentalmente io attuare notifico il ricorso per il rito sommario il convenuto si deve costituire nell'arco di una trentina di giorni quindi ha addirittura meno tempo del rito ordinario per costituirsi ma se poi il giudice rileva che il rito sommario non è adeguato a quella particolare controversia perché effettivamente è complessa la vicenda dispone il mutamento del rito ma non consente poi al convenuto di integrare la sua difesa la sua comparsa di costituzione nei trenta giorni fatta se non con le memorie del 171 ter quindi la prima memoria del 171 ter beh forse si potrebbe tenere a mente anche questo cioè se mi modifico il rito forse anziché darmi solo il 171 ter per potermi difendere a me convenuto che mi devo difendere dall'attore forse potresti darmi un ulteriore termine per rafforzare le mie difese anche perché poi il convenuto deve appena di decadenza proporre le riconvenzionali fare le chiamate in causa dei terzi quindi il mio giudizio personale devo dire il suo rito sulla riforma cartabile almeno per quanto attiene al processo civile non può che essere un giudizio assolutamente positivo è un grande sforzo compiuto dal legislatore per velocizzare i procedimenti per dare maggiore scelerità ai procedimenti e quindi tranquillizzare gli investitori stranieri tra l'altro le prime esperienze che abbiamo avuto della riforma cartabia i giudici non hanno differito le udienze le hanno confermate tutte ci hanno disposto un riferimento di uno di due giorni rispetto all'udienza indicata in citazione poi non so se effettivamente tra la prima udienza e l'udienza di espletamento dei mezzi di prova quanto tempo passerà purtroppo le prime udienze le avremo tra ottobre e dicembre perché è entrata in vigore da pochissimo la riforma per cui tenendo conto delle date però credo che il segnale che arriva dalla magistratura è un segnale molto forte di volontà di aderire a questa forma di accelerazione lo vedo ad esempio anche con la riforma del giudizio in Cassazione in Cassazione adesso c'è una norma che è stata introdotta che consente al relatore o al presidente di formulare alle parti la proposta di inammissibilità in fondatezza del ricorso per Cassazione questo che cosa consente? questo ti consente di depositare il ricorso depositi il contro ricorso e tu nell'arco di sei mesi di un anno riesci già a sapere se quel ricorso è considerato degno di essere accolto o non accolto dopo stamattina ho ricevuto la quarta o la quinta comunicazione di cancelleria da parte della Corte di Cassazione che facendo applicazione dell'articolo 393 bis se non ricordo male no qual era sì il 380 bis e invitava il ricorrente per fortuna ero contro il ricorrente invitava il ricorrente a valutare la possibilità di ritirare il ricorso e anche questo mi colpisce perché da un punto di vista astratto era una norma che sicuramente poteva velocizzare il giudizio in Cassazione poi doveva scontrarsi con i carichi di lavoro dei magistrati in Cassazione quindi vedere che il magistrato in Cassazione ha comunque già iniziato a dare esecuzione a quella norma entrata in vigore sei mesi fa quindi prendendo una serie di ricorsi e già dichiarandoli inammissibili infondati e quindi iniziando ad invitare i ricorrenti mi lascia presumere che forse l'indicazione che arriva dalla magistratura è proprio quella di voler dare assolutamente corso all'intento acceleratorio del processo civile quindi io devo dire trovo che nel giudizio civile di primo grado i magistrati almeno per quelle cause che stiamo affrontando hanno confermato tutti le prime odienze o le hanno differite veramente di 24 ore di 48 ore per quanto riguarda il giudizio in Cassazione i magistrati in Cassazione ci stanno già facendo applicazione il 380 bis e quindi questo devo dire che da un punto di vista di aspettative rispetto alla riforma cartabia non può che essere un buon segno quindi io mi auguro che effettivamente poi il giudizio civile possa essere velocizzato ribadisco qualche critica sicuramente l'ho letta perché ovviamente non ci sono ancora precedenti giurisprudenziali sono soprattutto contributi dottrinari poi vanno un po' edulcorati da parte di chi ha partecipato alle commissioni chi non ci ha partecipato è sempre facile poi poter criticare un lavoro complicato qual è quello del legislatore però devo dire che le critiche che io almeno personalmente muovo alla riforma sono veramente molto poche ribadisco il mio modo di vedere forse i termini potrebbero essere leggermente ampliati soprattutto per quanto riguarda la prima fase anche perché ci sono una serie di decadenze che poi ledono il diritto di difesa del convenuto ci sono altri strumenti che forse possono essere potenziati la riforma cartabia prevede delle ordinanze anticipatorie cioè delle sentenze anticipatorie il 183 terra il 183 quadra non capisco perché però non possono avere efficacia di giudicato e quindi sono limitati a definire quel particolare contenzioso faccio un caso su tutti sempre i miei investitori stranieri effettuano un contratto preliminare vogliono comprare o vogliono vendere degli immobili oggi attualmente il sistema delle trascrizioni previsto dal codice civile dal codice di procedura civile è una tagliola capestre cioè praticamente ti blocca tutto se tu hai un contratto preliminare o due pezzi di carta che possono essere qualificati come contratto preliminare tu puoi trascriverli anche se hai torto marcio li trascrivi sull'immobile e l'immobile è invendibile non pensiamo all'appartamento da 100 mila euro ma pensiamo a un complesso immobiliare da 300 milioni di euro tu li rendi invendibili perché nessuno più si avvicinerà a quel complesso immobiliare per comprarlo attualmente il sistema delle trascrizioni prevede che tu per cancellare quella trascrizione a meno che non sia manifestamente legittima perché non rientra tra le ipotesi di trascrivibilità devi attendere il passaggio ingiudicato della sentenza che ti conferma il passaggio ingiudicato della sentenza fino ad oggi sono almeno 8 anni 9 anni 10 anni velocizzando i processi lo si può aspettare in 5-6 anni ma tu provi a immaginare già mai ottenere bloccato un patrimonio immobiliare di 300 milioni per 5 anni quanto fa perdere praticamente all'investitore straniero quindi forse quando si introduce il 183 terro quadre forse fare una riflessione su come procedere alla cancellazione delle trascrizioni palesemente infondate temerarie e strumentali potrebbe essere fatta dal legislatore io parlavo con uno dei componenti della commissione gli ho rappresentato appunto questo tra i tanti dubbi e mi era stato detto che era un qualcosa su cui si erano confrontati e che forse poteva essere all'ordine del giorno di un'eventuale integrazione questo ad esempio non capisco perché se in Cassazione si possa procedere con la definizione anticipata esensi del 380 bis e non si possa fare la stessa cosa in primo grado ma se io vedo che questa domanda è palesemente inammissibile palesemente infondata ok posso fare il 183 quadre il 183 terro ma non è efficace di giudicato ma perché non posso proporre all'attore che sta strumentalmente facendo perdere tempo al convenuto e soldi al convenuto di rinunciare alla sua domanda giudiziaria a spese compensate salvo minacciarlo che se vuole andare avanti deve avere una procura speciale per andare avanti da parte del proprio cliente in modo tale che l'avvocato deve informare il cliente che quella domanda appare valesemente infondata e inammissibile e se decide di voler andare avanti beh poi si assume ogni responsabilità anche ai sensi del 96 cpc e quindi come il danno valide temeraria questo potrebbe essere un ulteriore motivo di confronto di discussione per cercare di capire se possiamo allargare per cui mi farebbe piacere che poi l'onorevole Sisto possa evidentemente raccogliere questo scopo questo invito ad ampliare un po' i termini per le difese non parlo di sei mesi per le difese ma forse 10-15 giorni 20 giorni in più potrebbero essere visti a rivedere i 183 ter o quadre valutare e quindi dargli l'efficacia di giudicato almeno su alcune cose valutare se non sia il caso di introdurre un 380 bis anche nel giudizio di primo grado ed ancora a rivedere un po' il meccanismo della modifica del rito sommario al rito ordinario o viceversa tutto questo poi eventualmente andrebbe effettivamente prevista un potenziamento dell'organico della magistratura perché anche l'ufficio del processo e quindi che le sentenze vengano impostate da parte di persone che fanno parte l'ufficio del processo e poi l'arrivista dal magistrato devo dire a volte fa paura a me spesso capita di vedere delle sentenze di magistrati di cui ho la massima stima però sono scritte in italiano tale per cui capisci chiaramente che evidentemente il magistrato poi ha rivisto il concetto giuridico che può piacere o non piacere ma molto probabilmente forse la parte iniziale la bozza può essere arrivata da qualcun altro praticamente si tratta quindi di un giudizio almeno per quanto ribadisco per quanto mi riguarda molto positivo io credo che il legislatore abbia sempre la mente accesa sul sistema giustizia per cui quando si parla di accendere elementi nel sistema giustizia sono anni che il legislatore la tiene accesa e la fa fumare la mente sul sistema giustizia perché cerca di trovare una soluzione purtroppo avete incrociati le lobby degli avvocati le lobby di altri finiscono poi per affievolire le proposte dal legislatore credo che la riforma cartabia sia un'ottima riforma possa essere migliorata in alcuni punti ed è giusto che venga lavorata ma spero e mi auguro che sia il punto di partenza per una modifica e non come la riforma del rito societario che venne definitivamente affossato anche l'ultima odienza ad esempio secondo me l'ultima odienza finisce per non avere molto senso cioè tu fai la prima odienza e il magistrato già è preparato perché già ha letto tutti gli atti e le prove le richieste di prove e i documenti dispone le prove poi dopo di che si va per la decisione prima della decisione depositiamo il foglio dpc comparsa conclusionale e memoria di replica perfetto in quell'udienza allora non riesco a capire in quell'udienza il giudice mi legge il dispositivo e quindi mi emana la sentenza ma per vedere che il giudice da quell'udienza cioè in quell'udienza che ci andiamo a fare ormai già abbiamo depositato tutto allora o mi fai una discussione orale e in cui mi togli la memoria di replica mi fai depositare solo la conclusionale andiamo in udienza facciamo la discussione orale e tu giudice poi c'hai 30 giorni per depositarmi la sentenza però fare un'udienza in cui già ci siamo detti tutto secondo me non fa altro che allungare effettivamente la durata del processo forse è inutile tra l'altro quell'udienza potrebbe essere inviata perché io posso chiedere con la memoria di replica la discussione orale quindi forse è il caso che la discussione orale io la debba chiedere già col foglio dpc in quel caso il magistrato entro 5 giorni me la dispone o non me la dispone poi deposito solo la comparsa conclusionale poi faccio una replica però forse anche l'ultima udienza il giudizio di primo grado potrebbe non ha senso che venga trattenuta ok grazie avvocato Decio Mattei per il suo intervento io direi non chiudiamo qui il panel lo sospendiamo in attesa che il vice ministro ci raggiunga e diamo avvio al terzo panel di lavoro in attesa che arrivi il ministro in modo tale da potergli porre i quesiti che abbiamo prepagato in chiusura prima della sospensione del panel il professor Ghia ha concluso il proprio intervento parlando della proposta del mediatore anche in contumacia di controparte sebbene sia un termine non prettamente utilizzabile nel contesto della mediazione questo per rafforzare un comportamento collaborativo all'interno della mediazione e magari far riflettere su una tardiva adesione oppure per consentire al giudice di avere qualche strumento in più nell'ambito della sua funzione decisoria questo tema è un tema collegandomi all'intervento del presidente Marvasi che è stato inserito anche nella PDR 1.98 2020 la riforma cartabia che convengo con l'avvocato Mattei abbia le caratteristiche per essere una riforma per lasciare veramente un segno positivo nella storia dal punto di vista deflattivo con tutti i margini di miglioramento che possono esserci ha fatto propria una parte importante della PDR 1.98 l'osservatorio a giorni riaprirà i tavoli di lavoro in uni perché le prassi di riferimento quando concludono la loro funzione cioè la determinazione di una prassi appunto o muoiono o si trasformano in norma tecnica siccome parte di quella prassi è diventata norma giuridica deve rimanere in piedi la parte residuale all'interno di una norma tecnica e ad esempio lo stimolo l'incentivo a fare un certo tipo di verbalizzazione che lasci poi una traccia nel giudizio pur rispettando la riservatezza della procedura l'abbino laterale piuttosto che ad esempio le consulenze tecniche nel corso del procedimento di mediazione con le caratteristiche che le possano rendere utilizzabili nel giudizio quando non enfatizzate nella norma giuridica possono essere disciplinate nella norma tecnica e lì vi è uno straordinario assist per il ministero che orienta e condiziona il comportamento dei mediatori e il comportamento degli avvocati in mediazione attraverso circolari e altri atti di propria emanazione poter fare circolari enfatizzando parti di una norma giuridica o parti di una norma tecnica probabilmente è più semplice che non partire da un foglio completamente bianco ecco gli strumenti per poter lavorare in maniera proattiva e poter anche nel mondo della mediazione trarre delle conclusioni positive rispetto agli effetti che la riforma Cartavia lascerà a terra io credo che li abbiamo tutti dobbiamo tornando all'auspicio iniziale iniziare a dialogare in maniera proattiva tra player altrimenti abbiamo i player chiaramente individuati gli organismi da una parte gli avvocati dall'altra e il ministero che non dialogano e non collaborano nell'ottica dell'implementazione e degli effetti positivi della riforma grazie Sospediamo quindi il pannello di lavoro attendiamo che arrivi il viceministro Sisto e diamo avvio al terzo pannello di lavoro invito Francesca Tempesta a raggiungerci qui sul palco Vittorio Pulerà il professor Giosuè Prezioso il professor Alex Grech e il dottor Stefano Busani grazie grazie Francesca Diamo avvio quindi al terzo pannello di lavoro che riguarda il tema accendere elementi nelle imprese ti lascio volentieri la parola a te prego Sì bene svoltiamo con la pratica e apriamo quest'ultima sessione dei lavori per raccontare le esperienze di chi ha avuto il privilegio di incontrare nel suo percorso formativo chi ha lasciato il segno chi con i suoi insegnamenti è riuscito ad accendere quella scintilla quella di cui parla Ray Smiler nel suo libro la scintilla è in grado di favorire il talento il talento innovativo e creativo in modo da poter influenzare le traiettorie personali e professionali del soggetto beneficiario è un tema che mi sta personalmente molto a cuore perché per ragioni che hanno origine nelle mie prime esperienze educative nella società sento vibrare l'importanza di questo libro perché in ogni ordine e grado credo si senta ancora molto quella sensazione di non aver ricevuto abbastanza di non essere stati aiutati in qualche modo a svelare le proprie intuizioni di non aver avuto la fortuna di incontrare chi ha dato chi è riuscito a dare quella spinta propulsiva in grado di liberare i blocchi spingendo all'azione favorendo la realizzazione dei propri desiderati delle proprie volontà eppure qualche traccia di questo tema la ritroviamo anche nella nostra Costituzione che dedica tre articoli al diritto all'istruzione ma è dalla lettura sistematica di questi tre articoli l'articolo 3 l'articolo 33 e 34 della Carta Costituente che apprendiamo come l'istruzione sia lo strumento per lo sviluppo della persona umana l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite interviene poi nell'89 approvando la Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e uno degli articoli più rilevanti della Convenzione è proprio l'articolo 29 sull'educazione l'allocuzione introduttiva dell'articolo 29 esplica le caratteristiche fondamentali dell'istruzione dell'educazione un'attività rivolta a qualcuno che richiede impegno che è continua è permanente ed è diretta verso obiettivi chiari un processo di continua tensione in cui tutti i soggetti educativi coinvolti collaborano e cooperano insieme verso un'unica direzione l'articolo 29 dice appunto l'educazione del fanciullo deve tendere al pieno sviluppo della personalità del fanciullo dei suoi talenti delle sue attitudini mentali e fisiche in tutto l'arco delle sue potenzialità uno degli indici di rispetto contenuti nell'articolo 29 è proprio il riferimento alle potenzialità perché quando si parla di bambini e di ragazzi non si dovrebbe parlare in termini di capacità perché non è dato saperlo ma sicuramente in termini di potenzialità che è dato riscontrare per mirare poi alla pluripotenzialità beh su questo tema ci sarebbe da parlare per giornate intere nel passato ho avuto la fortuna di lavorare ad un progetto formativo nella scuola dell'infanzia incentrato totalmente sull'articolo 29 della convenzione ed è stato estremamente formativo sia per gli insegnanti per i discenti per tutti gli operatori che a largo spettro sono intervenuti nel corso della mattinata abbiamo sentito parlare in più interventi di quanto l'importanza dell'educazione che l'educazione parta dalla base dai fanciulli fin dalle scuole materne per arrivare ai giorni nostri e ampliando infatti anche la platea dei beneficiari troviamo la commissione europea che con il piano d'azione imprenditorialità 2020 e la comunicazione ripensare l'istruzione ha sottolineato l'esigenza di mettere di inserire l'apprendimento all'imprenditorialità in tutti i settori dell'istruzione fin da molto piccoli nel documento della commissione europea infatti possiamo individuare tutta una serie di best practice su questo tema di casi in Europa che hanno portato avanti i progetti legati all'apprendimento dell'imprenditorialità anche nelle scuole materne questo perché l'Europa ha bisogno di imprenditori innovativi imprenditori creativi ma anche di una forza lavoro resiliente e flessibile capace di avere di essere dotata delle abilità e delle competenze chiave necessarie dall'Europa all'Italia abbiamo poi le tre sfide del piano per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione promossa dal ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione dove abbiamo prima sfida una società digitale seconda sfida un paese innovativo terza sfida un paese inclusivo e sostenibile e qui troviamo il diritto di innovare con il decreto semplificazioni abbiamo conosciuto e stato introdotto nel nostro ordinamento quello che è stato definito diritto ad innovare la norma ha un obiettivo ambizioso e cerca di intercettare un tema sensibile nel nostro paese e centrale per lo sviluppo dell'economia saper interpretare l'innovazione vuol dire saper dare una risposta a chi si impegna ad introdurre nuovi metodi di produzione nuovi modelli nuovi ordinamenti ma anche chi semplicemente si occupa e si dedica ad un'innovazione disruptive ad un cambiamento radicale in grado di modificare di svecchiare un ordinamento politico sociale è dimostrato che la creazione di una mentalità imprenditoriale è un ingrediente fondamentale della crescita endogena ed un elemento imprescindibile per lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale essere imprenditori ci dice Smilor nel suo libro non vuol dire molto di più di avviare un'impresa molti pensano che essere imprenditori voglia dire avviare una start up trovare dei finanziamenti avviare realizzare la propria idea il proprio modello di business e gestire con successo la propria azienda beh Smilor che è un formatore di imprenditorialità sostiene che l'imprenditorialità si fonda sull'avvio sullo sviluppo ma soprattutto sulla conservazione di un'impresa di successo la differenza sostiene Smilor sta proprio nelle parole potere e dovere cioè nel senso di essere tenuti a fare qualcosa o nell'avere il privilegio dell'opportunità di fare qualcosa se saper trasmettere la conoscenza è la chiave di ogni innovazione il fenomeno di successo che mi viene in mente è sicuramente TEDx ogni talk deve saper stimolare far riflettere ispirare pensiero creativo e conversazioni i talk sono tutti accomunati dall'esigenza e dalla voglia di condividere idee scoperte valori con passioni con un pubblico sicuramente recettivo con una mente aperta in una delle mie ricerche all'inizio della mia attività imprenditoriale perché ho lasciato la libera professione per dedicarmi allo studio delle nuove tecnologie dal punto di vista giuridico per quella che è insomma è stata la mia formazione o mi sono imbattuta in un interessantissimo e brillantissimo talk di Simon Sinek uno scrittore saggista inglese che poi ha ispirato me ma probabilmente non solo me visto che è risultato il terzo talk più visto di sempre nel quale racconta qual è la scoperta che ha profondamente cambiato il suo modo di intendere l'imprenditoria con la simbolizzazione del cerchio d'oro Simon Sinek sparagona la struttura del cervello alle motivazioni all'azione secondo la sua visione la funzione di un leader è quella di ispirare i grandi leader sanno ispirare le persone all'azione essere capaci di ispirare significa quindi dare uno scopo un senso di appartenenza che non ha nulla a che fare con incentivi esterni o vantaggi o obiettivi da dover conquistare e ciò andando a colmare una diffusa lacuna secondo cui la maggior parte delle organizzazioni delle persone sanno quello che fanno sanno sicuramente come lo fanno ma pochi sanno perché lo fanno tradotto in un'ottica di marketing secondo la visione l'approccio di Sinek le persone comprano quello che non quello che le persone sanno fare ma il perché il motivo per cui lo fanno ed è quindi con quest'ultima riflessione che vorrei collegarmi con il primo relatore di questa tavola di questo panel vista la sua consolidata esperienza nell'ambito della formazione e dell'imprenditoria soltanto una nota di tipo organizzativo ci siamo dimenticati di chiamare qui al tavolo di presidenza il presidente di Confagricoltura Puglia il dottor Luca Lazzaro e perché sul podio dovresti condurre direttamente pensavo fosse una Francesca vieni qui sul podio anche le organizzazioni più rodate hanno dei momenti di difficoltà ringrazio il presidente di Confagricoltura Puglia e condurrà dal podio Francesca Tempesta ecco allora stavo introducendo l'intervento di Stefano Busani che è formatore imprenditore si occupa di digitalizzazione e Spazio Innovazione è il frutto di una joint venture che la sua realtà aziendale ha portato avanti con un partner tecnologico Interactia come si sono accese elementi quindi in che modo Spazio Innovazione si rapporta con le nuove tecnologie ok funziona innanzitutto grazie Francesca dell'invito grazie all'osservatorio per l'invito di oggi mi presento innanzitutto perché oggi abbiamo avuto l'occasione e l'onore di avere tante persone famose io famoso non sono mi chiamo Stefano Busani sono un imprenditore ho 32 anni e la mia realtà è Spazio Professionista una società che offre consulenza e formazione proprio verso i professionisti nasce nel 2013 con questo obiettivo portare servizi e formazione ai professionisti per migliorare la loro attività poi diciamo l'evoluzione ci ha portato negli ultimi anni ad andare incontro verso quello che Francesca diceva verso le nuove tecnologie quindi offrire consulenze alle imprese per quello che sono nuove tecnologie e quindi come sfruttarle nel migliore dei modi e questa pulsione alle nuove tecnologie ha portato a quello che Francesca raccontava che è la creazione di Spazio Innovazione che è una joint venture con una start up innovativa interattia che ci fa sì che oggi il nostro obiettivo sia quello di andare a realizzare dei progetti di intelligenza artificiale per migliorare l'attività delle imprese rispetto un po' agli interventi anche di stamattina mi sento un po' quella figura diciamo la controparte di oggi perché oggi abbiamo sentito parlare tanti di formazione e abbiamo sentito come la formazione deve essere uno stimolo a far crescere le persone e come a volte la tecnologia in realtà possa essere invece un limite in tutto questo quindi una diciamo una situazione avversa e quindi vista di malocchio mi piace però citare Seneca il giovane filosofo politico romano dei diciamo ultimi anni quindi del 4 avanti Cristo fino a morto 65 dopo Cristo che che scrisse che la fortuna non esiste esiste solo il momento in cui il talento incontra l'opportunità e sono proprio gli ultimi due aspetti che vorrei prendere in considerazione con voi oggi il primo è il talento il talento che io associo alla formazione alla crescita di nuove generazioni che possano portare miglioramento portare innovazione come il tema di oggi farà crescere elementi il secondo aspetto è invece l'opportunità e l'opportunità a mio avviso oggi è proprio la tecnologia quindi la tecnologia che può essere al servizio delle persone noi come spazio innovazione infatti utilizziamo quella che è un qualcosa che ormai conoscono in tanti che è la i generativa quindi quel sistema di intelligenza artificiale che permette di andare a generare dei contenuti quindi creare contenuti sulla base di input che possono essere dati al sistema di intelligenza artificiale c'ha GPT nell'ultimo periodo penso che tutti quanti noi l'abbiamo sentito almeno nominare sono diciamo quegli strumenti che ci permettono banalmente da una richiesta in linguaggio naturale come può essere scrivi un articolo che parli di formazione o di qualunque altro argomento di generare un testo e quindi di far risparmiare tanto tempo magari a persone che mi viene in mente nell'ambito editoriale possono invece dover investire tanta attività per fare questo tipo di lavoro la i generativa diciamo secondo la nostra lettura ha due aspetti che oggi vorrei mettere in evidenza ulteriormente da un lato la paura che è quella che ogni tanto ritroviamo anche quando se ne parla quindi la tecnologia che potrebbe essere una minaccia quindi un qualcosa di negativo da abstrattare nei giorni scorsi ad esempio ho letto un articolo di Wired una nota rivista che parla spesso di tecnologia e di innovazione che trattava quella che è un'analisi quella che è stata un'attività di ricerca che hanno fatto di intervistare varie persone nel chiedere la loro opinione sulla i generativa quindi cosa pensano dell'intelligenza artificiale ed è emerso che il 52% degli intervistati ha manifestato un diciamo uno stato d'ansia rispetto all'intelligenza artificiale quindi una crescita dell'ansia della paura di questo strumento in realtà secondo noi l'intelligenza artificiale è una grossa opportunità appunto per fare un creare miglioramento e sviluppo dell'attività di business giusto per portarvi tre esempi di quello che sono le attività che si possono sviluppare con questo tipo di tecnologia noi adesso stiamo lavorando su un sistema di search quindi di ricerca intelligente che tramite linguaggio naturale permette alle persone di andare a velocizzare quella che è la ricerca di contenuti e informazioni magari rendendogliele anche fruibili in maniera molto più semplice più rapida quindi immediata un altro strumento che può secondo noi essere molto utile è anche quello di ottimizzare le attività organizzative quindi poter ad esempio andare sulla base di un testo a leggerlo tramite intelligenza artificiale e a portare un riassunto di quel testo in modo tale da essere velocemente fruibile e addirittura di andare a organizzare proprio quella che è l'attività lavorativa quotidiana quindi banalmente migliorando la consultazione delle mail la lettura di queste e lo scambio anche di documenti quindi organizzandolo in cartelle in attività che possano essere più facilmente ritrovabili e in ultimo invece mi ricollego un po' al tema di oggi a quello che può essere anche la crescita delle figure delle persone è un progetto che abbiamo chiamato GIOBO che consente di andare a creare dei curriculum sulla base di un colloquio fatto con un'intelligenza artificiale che permettano di essere più attrattivi più interessanti per le aziende e allo stesso tempo può permettere alle aziende di andare a fare un'attività di ricerca sfruttando un avatar quindi sfruttando un sistema diciamo di intelligenza artificiale tradotto in una sorta di robot che parla con le persone per andare a sviluppare colloqui in modo tale che si possano per le imprese far sì di fare molti più colloqui con ragazzi con figure con persone che vogliono e stanno cercando un'occupazione questo è a mio avviso proprio un sistema che ci fa capire subito di come sfruttando in maniera positiva l'intelligenza artificiale si possa coltivare il talento si possa far emergere il talento perché sappiamo tutti quanti che non sempre si riesce ad ottenere qualcosa perché non sempre si ha l'opportunità di poter emergere quindi questo per noi diventa molto importante e ci focalizziamo su questi strumenti che possono essere facili per concludere il mio intervento quindi torno alla parola opportunità la parola opportunità che dobbiamo leggere proprio in una giornata come quella di oggi dove il tema è accrescere le menti far crescere le menti e accenderle per fare in modo che si possa ottenere dei migliori risultati di come il fatto di mettere a valore una persona quindi togliergli magari delle funzioni delle attività che possono essere meccaniche che possono essere non gratificanti ma permettergli di fare innalzare quelle che sono le sue capacità il suo talento possa essere uno strumento proprio per migliorare il lavoro di tutti e migliorare quelle che sono le situazioni quindi per concludere il mio intervento di oggi è per cercare di dare una visione della tecnologia non come minaccia ma proprio come opportunità grazie a tutti grazie Stefano l'intelligenza artificiale generativa è sicuramente uno dei temi più chiacchierati del momento forse proprio il livello di autonomia e di creatività associato alla generativa che ha catturato l'attenzione dell'industria tecnologica proprio per giungere alla produzione di contenuti di vario tipo e fra i primi docenti in Italia ad aver quindi importato la criptoarte in un contesto accademico sono onorata di poter presentare qui il professor Giosuè Prezioso da professore per l'università degli studi di Bari è stato anche autore del lancio della prima biblioteca e asta NFT in un contesto accademico ma anche del lancio dell'Ateneo nel metaverso è professore ricercatore con esperienza internazionale ed è attualmente direttore degli studi dell'università Unicollege di Torino la mia città natale il più giovane in Italia siamo tutti molto curiosi di conoscere i dettagli di questa iniziativa allora intanto grazie a tutti e tutte per l'invito è stato davvero una giornata incredibile soprattutto finire con l'idea che ci possa essere una giornata del formatore è davvero incredibile è quasi una bella usannazione di una figura importantissima per la nostra cultura per le nuove generazioni ma va bollata io mi auguro che veramente si porti a casa sarò molto breve grazie per l'invito e per l'organizzazione ancora io rappresento Unicollege che è un'università internazionale italiana è una tra le più antiche sul territorio italiano siamo nati nel 75 a Mantua abbiamo anche una sede a Firenze e a Torino ci occupiamo di coniugare le due domande più importanti che ci chiede il mondo oggi imparare le lingue e specializzarci in qualcosa quindi i nostri studenti si specializzano in un settore criminologia per esempio e lo studiano in due lingue fra dieci quindi dal coreano al giapponese all'inglese e quant'altro ma oggi rappresento cercherò di presentarvi quello che facevo prima all'università degli studi di Bari da professore dove come si diceva anche prima abbiamo fatto un progetto che è bridato due cose importanti che è un po' il tema di oggi la tecnologia e l'università abbiamo cercato di metterle insieme e dalla Puglia dato che oggi c'è una bella ambasciata pugliese devo dire vi presento quello che abbiamo portato proprio all'interno della nostra classe io all'epoca insegnavo questo corso di laurea magistrale in management per attività culturali e mi sono un po' grattato il capo e mi sono chiesto ma che cosa è importante che si lascia in realtà oggi alla Puglia chi devono essere i manager culturali 3.0 allora ho messo insieme due cose un po' la tradizione che qui abbiamo in qualche modo esacerbato attraverso Domenico Modugno che credo conosciate tutti di Polignano a Mare con la tecnologia abbiamo creato quello che si chiama Apollian Blockchain quindi cercando anche di creare questa sonorizzazione delle parole chiave di quel periodo e cosa abbiamo fatto abbiamo cercato di mettere insieme quello che ci chiede anche un po' il momento storico l'umanesimo digitale quindi rimanere sempre degli umanisti quindi pensare e celebrare la conoscenza umana ma digitalizzarla quindi con alcuni saperi tra cui in effetti Blockchain si parlava anche prima dell'intelligenza artificiale però site specific quindi in Puglia e andremo un po' a cominciare con dei piccoli casi quindi sarà abbastanza partecipato diciamo ok mi auguro che si possano anche vedere dei brevissimi video di qualche secondo che vi fanno un po' capire su cosa abbiamo lavorato il territorio quindi ho mandato gli studenti per stare e ho detto quali sono le salienze del territorio pugliese di cosa si ha bisogno cominciate ad essere manager culturale e hanno pensato a quello che credo non si possa vedere non so se si riesce a cliccare se clicco si vede eccolo qui forse lo vedete questo è un pacman che cerca di giocare con la xylella sapete che la xylella è stata una grandissima ancora una piaga in Puglia ci sono 21 milioni di albero di olivo che sono morti purtroppo è una piaga che continua quindi gli studenti cosa hanno fatto secondo la modalità della gamification quindi della ludizzazione hanno creato questo piccolo gioco che mette insieme la xylella con le foglie di olivo e abbiamo cominciato ad andare nelle scuole elementari e medie pugliesi a far giocare i bambini a questa xylella a questo pacman per sensibilizzare le nuove generazioni dei bambini pugliesi a questo grande nemico regionale la xylella ed è stato così di successo che è stato poi incorporato in ricerche scientifiche nei dipartimenti sui studi della xylella dell'università degli studi di Bari quindi abbiamo coniugato la gestione culturale al territorio alla gamification alla scienza fatto dai miei studenti quindi molto contento andiamo poi alla danza sapete benissimo che la Puglia ha una grandissima icona quella della Taranta la notte della Taranta infatti è stata il nostro partner per questo evento che è poi diventato anche l'esame vero e proprio cosa abbiamo fatto? abbiamo creato un NFT questo lo vedete molto breve vediamo se riesco a non so se ci riesco ok questo è proprio creato dalla notte della Taranta che gratuitamente ha voluto partecipare con l'università degli studi di Bari e abbiamo creato un NFT il primo NFT ufficiale della notte della Taranta che come vedete in qualche modo ha cristallizzato questa bellezza pugliese non solo insomma proprio visiva ma anche proprio della danza per quanto invece riguarda la mobilità abbiamo lanciato ecco come vedete questa è una versione beta dell'Ateneo dell'Università degli Studi di Bari che è anche un'architettura importante adesso al centenario nel 25 per creare ripeto questa è ancora una versione beta la mobilità anche digitale quindi credo che tutti conosciate la Erasmus abbiamo creato le prime esperienze di mobilità digitale attraverso un Erasmus digitale che è stato in qualche modo fortemente corroborato durante il Covid e noi abbiamo pensato ad una versione beta che in effetti poi è stata portata a termine andiamo adesso con le lingue non so se sapete che la Puglia ha un patrimonio di lingue di minoranze linguistiche importantissime abbiamo il Franco Provenzale siamo la regione più meridionale al mondo ad avere insomma questa piccola isola linguistica già di derivazione medievale addirittura ci sono studiosi francesi che vengono in Puglia per studiare questa minoranza linguistica l'Arberesce e poi il Grico cosa abbiamo fatto? prima di tutto queste tre minoranze linguistiche per la prima volta le abbiamo messe insieme che può sembrare cosa scontata ma è abbastanza raro che sia successo e cosa abbiamo fatto? dato che si stanno modificando e assorbendo nel tempo perché vengono metabolizzate dall'italiano abbiamo cristallizzato queste minoranze linguistiche come si parlano oggi per garantire agli studenti del futuro e garantire anche alle generazioni future di capire come suonava ed erano queste minoranze linguistiche e qui c'è un piccolo spezzone sul Grico poi vi interrogo e vediamo se vi ricordate cosa significano mattinata o cari nifta ti è in glicea tu si nifta ti è noria cevo e plonno penseo in tasse sena c'è tumpisti fenestra su agapimo sticcardia musunifto tippena evo panta se sena penseo iatissena sfichimo gapò mattinata scusate nemmo avanti e poi credo che un po' la conosciate tutti lei praticamente l'ambasciatrice qui addirittura c'è un articolo del New York Times che ci parla insomma di questa grandissima conicità delle orecchiette della pasta e credo che conosciate tutti l'orecchietta addirittura ha una storia davvero secolare e molto importante quindi quando si parla di cibo e territorio abbiamo pensato di prendere le orecchiette e qui gli studenti si sono un po' più divertiti perché attingendo al mondo della criptoarte hanno creato diversi NFT che poi sono stati venduti con moltissime centinaia di euro e adesso vi dico un po' come abbiamo chiuso questa operazione però quindi così è stata un po' suggellata la regina delle orecchiette l'orecchiette ormai la stiamo proponendo a tutti l'ho portata anche in America è venuta a Puglia a promozione e mi disse venire con noi in America e io gli chiese fare che sto bene qui nella mia dimora all'arco basso dice no devi venire e devi fare quello che stai facendo noi abbiamo avuto un successo notevole gli americani sono impazziti per le orecchiette questo qui è un po' è abbastanza simpatico però devo dire che poi quando arriveremo al momento asta vi farà capire che è andata molto bene quindi davvero la regina delle orecchiette questo è fatto dagli studenti con un devo dire anche un'estetica NFT e criptoarte anche abbastanza avanzata la regina delle orecchiette si sarà divertita allora che cosa è successo dopo ad un certo punto noi abbiamo preso tutto questo materiale digitale che abbiamo creato e abbiamo deciso di fare un'operazione abbastanza importante si parlava prima della demonizzazione della tecnologia è assolutamente vero quindi cosa abbiamo fatto abbiamo creato una copia di ognuna di queste testimonianze dal gioco della Xilella all'NFT e quant'altro l'abbiamo depositato con atto ufficiale alla biblioteca dell'università degli studi di Bari così facendo abbiamo attinto anche il potere validante che è l'università cercando anche un po' di nobilitare quella che è la nuova cultura NFT della gamification e quant'altro non dicendo che è importante che andrà ad assorbire il resto o la sostituirà perché non c'è assolutamente sostituzione ma complementarità e siamo diventati la prima università al mondo ad includere anche l'NFT in un formato lettorio bibliografico di una biblioteca universitaria e poi cosa abbiamo fatto oltre a questa operazione bibliotecare abbiamo aperto anche la prima asta al mondo tenuta all'interno di un ateneo accademico in cui abbiamo venduto tutti questi asset voi vi immaginerete che nessuno a Bari sapesse cosa fossero gli NFT cosa fosse la gamification invece avevamo 250 persone tutti gli NFT sono stati venduti e l'operazione è andata così bene che siamo stati recensiti in tutto il mondo qui vedete articoli in inglese francese tedesco Forbes Repubblica Rai 1 Rai 2 e addirittura sono state iscritte 17 tesi su questo progetto quindi questo è un bel progetto che mette un po' insieme gli ultimi due nuclei di cui abbiamo parlato la tecnologia e l'università grazie 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 professor Prezioso allora interrompiamo brevemente la nostra sessione dei lavori perché è arrivato il vice ministro Francesco Paolo Sisto chiamo il dottor Giordano a presentarli buongiorno a tutti un momento molto importante dei lavori di questa mattina aspettavamo l'intervento del vice ministro che è stato menzionato in occasione di più interventi al tavolo di presidenza per il particolare momento delicato di implementazione della riforma cartabia nel mondo della giustizia in generale in più momenti lo abbiamo menzionato nell'ambito delle ADR in quanto vice ministro uno degli obiettivi dei lavori di oggi è quello di attivare un dialogo permanente concreto pragmatico operativo non sindacale ma volto a fare in modo che enti e soggetti abilitati e accreditati dal ministero della giustizia possano operare appunto su delega del ministero in questo caso faccio riferimento in particolar modo agli organismi di mediazione che hanno trovato molto spazio nell'ambito dei temi e delle argomentazioni dell'osservatorio ADR che per poter amministrare le migliaia e migliaia di mediazioni che contribuiscono allo smaltimento del carico giudiziario e rappresentano un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi PNRR operano esclusivamente su delega e accreditamento del ministero ora noi siamo in qualche modo portavoce di una serie di istanze degli operatori economici che fanno mediazione gli organismi accreditati per capirci che stanno aspettando dal 28 febbraio e dal 30 giugno un decreto ministeriale attuativo menzionato nella norma primaria che oggi non c'è e che dipende soltanto dai lavori del ministero che è stato in qualche modo anticipato nei suoi possibili contenuti da una discussa PEC pervenuta agli organismi di mediazione tra il 6 e l'8 aprile scorso che poi è stata oggetto di grandi contestazioni immediatamente revocata circostanza abbastanza singolare nel contesto istituzionale e che avrebbe dovuto trovare la sua declinazione nei contenuti ci auguriamo riviste corretti nell'ambito di un decreto ministeriale il decreto ministeriale poi per scelta tecnica è stato diviso in tre decreti due dei quali sono pervenuti e uno che però è il più corposo dal punto di vista operativo tarda ancora ad arrivare ora io non voglio addentrarmi nei tecnicismi di questo decreto l'esperienza di questa fase di implementazione della riforma cartabia ha lasciato sul tavolo un dato questo dato è che non esiste di fatto se non instaurato in via emergenziale all'indomani di questa PEC un dialogo tra gli enti abilitati e accreditati e il ministero questo dialogo davvero non esiste nel senso che ai fini degli adempimenti formali ci sono dei dirigenti all'interno del ministero di straordinaria capacità e anche efficacia ma ogni qualvolta si vada oltre un adempimento formale e il quesito posto dall'operatore consiste nel dire come devo materialmente fare questa cosa la risposta non arriva e gli operatori si trovano nella condizione di operare in totale autonomia e discrezionalità per come dire dare un dato oggettivo oggi tutto il mondo della mediazione dal primo luglio non ha più riferimento non ha più il riferimento delle tabelle ministeriali delle tabelle ministeriali precedenti relative ai tariffari perché sono cessate con l'entrata in vigore della riforma cartabia in teoria salvo il commettere inevitabilmente delle violazioni gli organismi di mediazione non avrebbero potuto operare dal primo luglio in avanti stanno operando tutti e stanno operando tutti censurabili sospendibili revocabili perché stanno autonomamente assumendo delle decisioni di tipo soggettivo voglio fare un esempio sulle tariffe molti continuano ad applicare le tabelle precedenti che è una scelta di buon senso però non sono più basate su un riferimento normativo la legge non le applica più le parti possono utilizzare questo momento torbido della mediazione le parti e i loro avvocati come un pretesto strumentale a non aderire a far fallire la mediazione e quindi non invoco personalmente a nome dell'osservatorio soltanto un intervento il più immediato possibile volto a mettere nelle condizioni questo importante settore dell'economia che ha anche una importante funzione sociale di operare nella regolarità da domani mattina o di avere idonei e congrui tempi per adeguarsi a eventuali nuove regole laddove fossero più restrittive invoco qualcosa di molto più nobile ed importante un dialogo permanente volto ad avere un interlocutore costante all'interno del governo nel caso di specie del ministero della giustizia affinché gli operatori dal medesimo ministero abilitati possano operare nella quotidianità senza avere il rischio di essere poi censurati sospesi o addirittura revocati io la ringrazio vice ministro perché lei si è impegnato a partecipare oggi e nonostante la sua agenda e complessi impegni è qua con noi e quindi a nome dell'osservatorio e di tutti i presenti la ringrazio e buon lavoro e buona continuazione in questi lavori ma direi che la relazione di Ivan Giordano è stata perfetta ha cercato in qualche modo di introdurre in modo come posso dire agonistico il mio intervento ma io accetto ben volentieri la sfida perché quello che è accaduto ad aprile dà l'idea di un ministero che funziona che ragiona che non è testardo nelle sue scelte mi insegnava qualcuno molti anni fa che non c'è peggiore stolto di chi non sa fare il passo indietro di chi non comprende che quando ci sono delle cose che non vanno bisogna avere la capacità la forza l'autorevolezza per tornare indietro noi siamo tornati indietro c'erano delle cose che non andavano e noi siamo stati capaci secondo me molto efficacemente di disegnare un percorso leggo applaudito da tutti posso prendere anche i commenti di vari titolari di organismi di mediazione che hanno tutti quanti tutti quanti sostenuto che quel passo indietro ha significato tre passi avanti successivamente i due provvedimenti sono stati regolarmente licenziati ma anche il terzo è in avanzato stato di elaborazione ho assunto informazioni presso il DAG che è il nostro dipartimento deputato a questi adempimenti quindi mi sembra che il ministero nonostante i toni serrati dell'amico Giordano possa mettere una coccarda ampia sul suo petto per dire che mai come in questo caso si è data prova di pragmatismo di capacità di direi ascolto che è un altro elemento molto difficile nei ministeri nei ministeri in genere si scrive ma tanto si parla di più ma si ascolta poco noi abbiamo ascoltato abbiamo verificato quelle che erano le esigenze ci siamo adeguati in tempi rapidissimi 6-8 aprile 14 aprile quindi capite bene un tempo direi stupefacente per una struttura ministeriale ma come è stato possibile essere così veloci caro Antonio noi che siamo abituati a ministeri che prima di pensare debbono pensare se pensare perché il nostro rapporto con le categorie professionali è un rapporto diretto io ho la delega alle professioni quindi mi posso assicurare che le mie interlocuzioni sono dirette non ho bisogno che qualcuno mi chieda un appuntamento e poi ve lo fisso tra 15 giorni una sala interlocuzione telefonica diretta un caffè magari nelle pause consente di risolvere problemi che è anche una rapidità di gesti interna al ministero sia col dottor Biritteri che col dottor Campo abbiamo una interlocuzione con Giovanni Mimmo molto serrata quotidiana in cui ripeto come sempre il rapporto personale supera la difficoltà della struttura e questo è un dato su cui dobbiamo riflettere e questo libro ci fa riflettere l'importanza dei rapporti personali l'importanza delle persone al di là delle tecnologie è un libro che non è lontano dall'apparente freddezza del quesito che mi è stato rivolto cioè dimmi che hai fatto questo mi ha chiesto Giordano ma non è lontano per la verità devo dire anche con toni per me inaspettatamente come posso dire da centravanti abile ma è noto io giocavo da terzino quando giocavo a pallone quindi di centravanti abili ne ho visti tanti e ne ho fermati tanti quindi voglio dire non ho timore di questo tipo di domande però vi è una esatta connessione fra il quesito e quello che il libro ci racconta a parte che Smiler mi fa pensare già a una cosa sorridente cioè Smiler è qualche cosa che ti porta ad una visione ottimistica della vita poi tornerò sul discorso delle tariffe quando si grazie molto gentile ma io l'ho fatta apposta perché volevo che non fessi l'azzo è colpa dell'aria condizionata che ovviamente non mi condiziona ma mi ammazza sul piano della voce quindi è un libro che in qualche maniera restituisce la gioia del rapporto fra persone e voglio dirlo con molta chiarezza c'è tutta quella polemica accendere le menti insegnare per Smiler significa cita Plutarco non riempire un vaso ma accendere il fuoco questa bellissima espressione poi è stata utilizzata da Ietz eccetera ma il dato centrale è quello di restituire al rapporto fra chi offre nozioni non voglio dire né insegna né forma il piacere di essere gratificato da quello che fa e qui cito la prefazione di Antonio Ricchio quando richiamando Seneca dice che sostanzialmente si impara da coloro a cui si insegna non me ne vuole dire Antonio quello che dico io ai miei giovani ingegneri quando alla prima lezione del corso alla prima e all'ultima esattamente come dice il nostro autore dando importanza questo dalla postfazione di Ivan Giordano dando importanza ai due momenti il primo e l'ultimo giorno di contatto come se fossero sostanzialmente due punti paralleli che camminano fin dall'inizio insieme e che vanno riempiti con coerenza allora noi che diciamo dividiamo molti rapporti in cui dobbiamo insegnare qualche cosa agli altri o meglio informare di qualche cosa agli altri può essere un avvocato nei confronti dei suoi collaboratori può essere un magistrato nei confronti dei suoi dipendenti può essere un professore universitario nei confronti dei suoi studenti ma resta il fatto che il protagonista del libro non è né chi forma o chi insegna né chi riceve l'insegnamento e l'insegnamento in quanto tale è questo rapporto meraviglioso che si crea questo feeling e come diceva Paolo Coelho così mi ha insegnato l'amico Pecorello non dice Coelho ma Coelho così mi dice io mi adeguo al suo insegnamento il viaggio conta molto più della meta e questo è un libro che ti insegna a viaggiare non ti insegna dove e come si arriva ti dà la possibilità di un viaggio scandito con delle parole chiave che sono la differenza fra imparare e formare ne parlavamo ieri sera dove io sono convinto e che consentitemi di aggiungere qualche cosa a quello che dice Smiler non me ne vorrà seppur da lontano dov'è io penso che il concetto di formazione può essere anche un concetto silente che deriva dal modo di insegnare modo di formare cioè lo stile nel proporre la capacità di interfaccia la capacità di stimolare la curiositas secondo me è già formazione cioè non c'è un qualche cosa di più rispetto alle modalità corrette di insegnare qualche cosa a qualcuno c'è uno stile c'è un approccio c'è una carica umana che di per se stessa forma io i nostri grandi maestri ricordo che ci formavano con l'esempio mica dicevano come si viveva non ci insegnavano a vivere con le parole ci insegnavano a vivere perché noi guardavamo loro e capivamo come si vive allora questo rapporto fra insegnamento e formazione può essere anche un rapporto occulto occultato fintamente occultato criptico ma è un rapporto pesantissimo in cui le modalità dell'insegnamento è un po' come come la lirica cioè tutti possono cantare la turandò ma ieri c'è stata la prima balla Petruzzelli a Vario o avanti ieri purtroppo non ci sono potuto essere ma le modalità con cui tu interpreti lo stesso spartito cambiano completamente la qualità della prestazione pensate ai pianisti di musica classica suonano tutti lo stesso spartito esattamente in modo identico dal punto di vista tecnico però come suona Polini Chopin certo ce ne sono pochi e la differenza è proprio nelle modalità della prestazione questo questo fa la differenza e se questo è vero c'è un secondo SEP che io trovo straordinario ed è la creatività una per spiegare ai miei ingegneri io mi occupo di diritto per andare alla sicurezza sul lavoro all'università per spiegare ai miei ingegneri che non c'è differenza fra la cultura umanistica e quella scientifica io ricorro a un esempio che per me è tanto caro la musica la musica è come scritta c'è una chiave ci sono cinque righe del pentagramma c'è una chiave di violino di basso c'è un numero tre quarti quattro quarti che indica esattamente quello che ci può stare in una battuta se tu ci metti una biscroma in più fai saltare tutto per aria cioè la battuta è un come posso dire un teorema aritmetico che deve avere esattamente quel contenuto non ci può essere una virgola di più ma di fronte a questo rigore voi conoscete nulla di più creativo della musica no allora rigore e creatività sono amiche vanno di pari passo anche nel diritto io assumo Antonio come interlocutore come Manzoni faceva quei 25 lettori anche nel nostro diritto il nostro amato diritto noi abbiamo delle regole ma la capacità di interpretare di dare forza all'originalità dell'interpretazione non è certamente fantasia anzi è rigore scientifico nella creatività dell'interpretazione e questa è l'altra parola magica insegnare una creatività rigorosa sulla scorta del rispetto delle regole questo varia anche in politica mica soltanto nella cultura umanistica o scientifica anche in politica devi rispettare determinate regole per essere credibile e la credibilità e l'autorevolezza si fondano proprio su quanto sei capace di mostrare all'esterno che rispetti le regole emozione un'altra parola che Smiler utilizza a piene mani perché poi i rapporti umani hanno bisogno di emotività cioè il ghiaccio di una nozione distribuita come se fossero fotocopie non è capace di allinearsi con quello che dice l'autore e poi in quella parte oltre l'aula c'è la necessità di stimolare la curiositas cioè di andare al di fuori dell'ambiente del ventre materno dove tu ti scambi necessariamente in spazi ristretti il rapporto che continua va oltre io ricordo sempre il professor D'Erasmo che è stato il mio maestro al liceo durante l'estate ci imponeva noi ovviamente lo subiviamo ma poi tu capisci perché come sempre quando sei ragazzo non riesci a comprendere di leggere un libro e di quale libro a me capitò Memorie di un cacciatore di Ivan Turgenev una roba che se la leggi dieci volte costruisci una casa perché tanto tanto è impegnativo e ci imponeva entro il 15 agosto di mandargli una relazione sul libro che avevamo letto e il 15 di agosto oltre l'aula oltre il luogo di insegnamento questo serviva a formarci a darci la possibilità di non relegare in un luogo l'apprendimento ma di farne una come posso dire una costante di vita e allora chiudo su questo punto e poi vengo alla risposta questa operazione verità questa diciamo necessità di gioire di questa cultura e di questa formazione informazione empatia emozione curiosità diventa e qui veramente dico una cosa di cui sono convinto divertimento cioè il divertimento di imparare la possibilità di dare all'apprendimento un carattere gioioso un carattere come posso dire di costante di costanti bollicini a tutti uguali per essere ovviamente più credibili in cui l'effervescenza non è mai un modo per tracimare ma un modo per essere particolarmente coerenti e valorizzare il messaggio che tu dai e questo vale per la giustizia l'ho detto vale per i magistrati vale per gli avvocati per i professori universitari in un momento in cui e questo è come posso dire una sorta di metodo da seguire la nostra giustizia affronta un momento di particolare delicatezza perché noi abbiamo delle riforme che nascono sulla spinta sulla pulsione dell'Europa al fine di poter conseguire i fondi del PNRR quindi sempre il contrario devi fare una riforma e se non la fai perdi i soldi mi rimproverava un pubblico ministero posso dirlo perché è stato nominato ieri procuratore a Napoli Nicola Grattelli diceva ma come voi fate le riforme per avere i soldi certo dicevo io noi facciamo le riforme per avere i soldi ed è un onore se le riforme vengono fatte sempre tenendo i piedi per terra non è il dolo specifico conta la condotta l'azione il nesso di causalità e l'evento un elemento psicologico consapevolmente iperdoloso se vi fate passare questo paragone con quello di cui mi occupo da sempre nella mia vita allora una giustizia che negli ADR ripone grande fiducia proprio questa mattina abbiamo avuto una riunione perché ho fatto tardi con il ministro proprio per rivedere la necessità di raggiungere quell'obiettivo del meno 90% di arretrato e stabilire se sono necessari degli aggiustamenti stiamo pensando ad un utilizzo finalizzato della magistratura onoraria a un palpotenziamento degli ADR perché sostanzialmente gli ADR si collocano proprio nella logica di rendere la giustizia più fruibile come anche la abolizione dell'abuso d'ufficio qualcuno forse questo non l'ha bene capito che serve a dare al pubblico amministratore la fluidità nella firma dei provvedimenti ad evitare la paura dell'atto lecito pensando di poter essere iscritto a modello 21 e di rimanerci iscritto per un anno e mezzo salvo poi nel 94,5% dei casi essere prosciolto archiviato o assolto quindi è una giustizia che si muove mio caro giustizia che ha a cuore l'efficienza ma non trascura le garanzie non è una giustizia che scambia l'efficienza con la riduzione delle garanzie questo sarebbe gravissimo gravissimo se si volesse migliorare la prestazione la performance della giustizia asciugando la domanda e non migliorando l'offerta visto che siamo in tema economico e questo riguarda anche quindi massima attenzione a tutti i temi che tu hai sollevato il ministero si muove direi molto velocemente da questo punto di vista anzi possiamo anche aprire una interlocuzione diretta non ho nessun motivo nonostante la domanda di trattarsi diversamente da come ho trattato gli altri c'è un articolo 3 della Costituzione che per me è come posso dire la magnacarta del codice comportamentale di qualsiasi giurista slash politico le due cose non debbano distanziarsi è necessario che la politica per chi si occupa di giustizia risenta fortemente dei profili formativi di ciascuno sia capace di esprimere un know-how che deve essere percepito e percepibile e chiudo con un'osservazione una parola che è implicita nel libro di Smilor che si legge dappertutto è come un presupposto è come l'alveo in cui deve scorrere il letto del fiume in cui l'acqua deve scorrere la parola competenza cari amici se non c'è competenza non c'è politica se non c'è un chirurgo che in sala operatoria sappia manovrare il bisturi deve che il paziente ha ottime possibilità di uscirne morto allora il tema delle competenze è quello che al di là dei metodi noi dobbiamo tenere costantemente sott'occhio e non basta la paziente bonomia di Antonio Ricchio e la competenza che ha nel gestire la qualità delle nostre università è necessario che noi spostiamo l'asse il baricentro della formazione culturale da una media età ad una tenerissima età la grande scommessa che noi dobbiamo giocare sia dal punto di vista della cultura sia dal punto di vista della lotta la illegalità e potenziare la consapevolezza dei nostri bambini che più sai e meglio è che la cultura è uno strumento per tenere lontana l'illegalità ed è uno strumento di crescita ineliminabile un paese più forte e più legale ha bisogno di più cultura cultura è legalità con l'accento fatemi passare questa specie di calambur da quattro soldi ma è proprio così noi dobbiamo avere la capacità di crescere culturalmente di far crescere il paese culturalmente non con una alfabetizzazione generalizzata ma con un convinto percorso didattico che veda fin dalla tenerissima età un unicum direi progettuale il cui finale debba essere ovviamente consentire a queste culture di rimanere all'interno dei nostri contesti perché questa è l'altra grande scommessa quanti ragazzi e questo lo dico con un grande dispiacere i migliori sono costretti a cercare delle occasioni di lavoro al di fuori dei nostri contesti quindi è un discorso articolato complesso ma deve partire comunque da un investimento fortissimo nei primi anni della scolarizzazione per poi completarsi in una università che abbia degli sbocchi lavorativi e chiudo stiamo lavorando ad un altro percorso secondo me di grande interesse ne parlavo con Anna Maria Bernini provare a inserire talune e professioni all'interno dei corsi universitari cioè un'università che ha già in sé dei percorsi formativi che possano portare per quanto riguarda la giurisprudenza che la facoltà che veramente noi conosciamo e amiamo più di qualsiasi altra l'università di Bari per noi è stata casa pensate ad un corso prima della laurea per capire se vuoi fare l'avvocato se vuoi fare il magistrato se vuoi fare il notaio se vuoi avere delle professionalità che già all'interno del corso universitario consentono un orientamento ecco come vedete ogni governo ha le sue caratteristiche ogni parlamentare ha le sue caratteristiche ognuno di noi esprime un pensiero però soltanto se eghealianamente tutti quanti insieme esprimiamo un pensiero forte da questo punto di vista e indipendentemente dalle appartenenze una frase che a me piace moltissimo non sono legato alle appartenenze sono legato alle condivisioni nell'interesse del paese che è un dato molto più interessante molto più dinamico molto più vero da tanti punti di vista se sei troppo legato alle appartenenze corri il rischio di limitare il range della tua azione quindi convinto delle tue idee convinto del tuo DNA garantismo liberismo tutto quello che voi volete ma disponibile a fare squadra nell'interesse del paese questo libro non soltanto accende elementi ma ci dà la possibilità sia pure in un percorso apparentemente collaterale di approfondite riflessioni e per carità qualche volta anche di rispondere a qualche domanda un po' impertilente grazie 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 viceministro ascoltando il suo intervento moltissimi sono stati i ricordi gli spunti di riflessione che mi sono giunti a mente tra cui un pensiero di Don Lorenzo Milani che diceva che ogni relazione in realtà è formazione credo che anche in questo breve rapporto in questo botte risposta che è intervenuto questa mattina ci sia stata una semina in qualche modo una semina formativa e di condivisione di idee che potranno portare probabilmente a un'interlocuzione produttiva ci auguriamo beh continuiamo nel nostro intento di dare concretezza a questo ai contenuti di questo testo abbiamo parlato tanto di come la Puglia rappresenti grazie a università rapporti con università atenei e politiche di sviluppo favorite all'incentivazione un territorio florido io mi devo chiedere scusa se mi allontano non è bello parlare andarsene però capite bene gli impegni istituzionali necessitano questo tipo di approccio perdonatemi davvero ma come diceva il poeta ho di che cuore con voi mi resterei guardando e rispondere ho di che cuore però non vi chiamo cifrestetti perché sta male un territorio florido è dedito all'innovazione alla ricerca e alla capacità di attrarre investimenti e con questo cruciale è sempre stato il tema della sostenibilità vari gradi e con noi qui seduto al tavolo c'è un amico Luca Lazzaro il presidente di Confagricoltura Taranto abbiamo sentito Puglia anche Taranto io l'ho conosciuto con il quale vorrei dialogare sull'importanza delle innovazioni che anche il settore agricolo richiede chiedendoti di parlarci di quali sono le attività che state portando avanti come Confagricoltura a supporto delle imprese grazie grazie Francesca grazie Gian Mario per l'invito e l'opportunità di parlare a questo simposio saluto tutti quanti i presenti e i relatori che sono qui e che si sono alternati nel tempo la Confagricoltura ovviamente è all'interno del suo all'interno del DNA di questa organizzazione c'è l'innovazione e c'è la ricerca pensate abbiamo cambiato lo statuto della nostra organizzazione e abbiamo voluto inserirlo chiaramente scolpito all'interno di quella che è la carta fondamentale della nostra organizzazione innovazione e ricerca perché oggi bisogna fare una scelta di campo su questo tema non si può ragionare diversamente non si può non affiancare e non credere nella scienza nel credere di quelle che sono le tecnologie e applicarle nel settore agricolo gli agricoltori che io rappresento in Puglia rappresento oltre 50.000 imprese stiamo parlando di un numero significativo di aziende che creano occupazione un numero che talvolta quando vedo i dati delle aziende che mi onoro di rappresentare mi fanno tremare le vene nei polsi perché ovviamente significa tanta responsabilità all'interno di ogni azienda che vado a visitare ogni imprenditore che conosco vedo una mente accesa questo è importantissimo no? cogliendo quello che è il mantra di questo di questo simposio cioè gli agricoltori gli imprenditori di questa terra ma anche gli agricoltori italiani hanno una grandissima capacità di vedere sempre avanti vedere lontano vedere quelle che sono le opportunità all'interno di un percorso aziendale di un percorso di crescita aziendale la Puglia ha sofferto molto in questi anni avete visto anche qualche immagine relativa alla Xilella che ha rappresentato il relatore che mi ha preceduto e la Xilella è un gravissimo problema è uno dei problemi più grandi che stiamo affrontando nel nostro tempo nella natura e nell'agricoltura moderna ancora non c'è una cura non c'è un'evidenza scientifica rispetto alle soluzioni e quindi molto probabilmente purtroppo andrà avanti oggi siamo impegnati tra l'altro in una ricostruzione estremamente lenta siamo all'interno di una sala del Parlamento e colgo l'occasione per stimolare anche il Parlamento e il Governo a stanziare risorse per la riconversione di questo territorio a fare delle scelte che cerchino di mettere a terra quelle operazioni che bisogna mettere a terra quanto più rapidamente possibile ma all'interno di tutto questo io vedo nelle aziende agricole innovazione e sostenibilità che sono all'interno del DNA di queste imprese innovazione perché ovviamente oggi produrre senza le tecnologie diventa assolutamente impossibile non diventa più sostenibile dal punto di vista economico per cui l'innovazione è centrale per le nostre attività stiamo facendo degli sforzi enormi cogliendo anche quelle opportunità che ci sono di finanziamento che vengono date dal PNRR o da altre misure di finanziamento per le aziende agricole ma puntando tutto sull'innovazione sull'innovazione è centrale la digitalizzazione delle imprese Confagricoltura Francesca ha evidenziato cosa fa per le imprese agricole Confagricoltura ha creato un vero e proprio hub che si chiama Hub Farm lo trovate anche andando a cliccare Hub Farm e a digitare Hub Farm su Google Hub Farm è un vero e proprio hub innovativo che permette all'impresa associata a Confagricoltura di digitalizzarsi quasi totalmente quasi totalmente perché sarà possibile diciamo comunicare attraverso quelli che sono gli uffici di Confagricoltura tutto quello che è necessario per le assunzioni del personale o per la domanda PAC e quindi gestire il proprio fascicolo aziendale o anche gestire il quaderno di campagna o addirittura andando oltre quindi con uno sforzo enorme dal punto di vista dell'imprenditore della capacità di investire nell'azienda di rendere più innovativa l'impresa e quindi mettere per esempio dei sensori nelle aziende e quindi nell'azienda e nei propri campi e quindi rendere anche più diciamo fruibile più sostenibile la propria azienda cioè utilizzando questi sensori noi possiamo addirittura vedere quando è necessario l'utilizzo dell'acqua quando è necessario trattare dal punto di vista fitosanitario quando è necessario concimare o anche innovare dal punto di vista dell'utilizzo delle macchine trattrici e quindi utilizzare meno gasoli agricoli e quindi risparmio del gasoli agricolo risparmio di fitofarmaci risparmio in termini economici ma anche in termini ambientali perché abbattendo in maniera significativa tutti questi fattori produttivi andiamo a dare un vantaggio economico all'azienda ma anche a quello che è l'ambiente che ci circonda e rendiamo l'impresa agricola sempre più sostenibile oggi ovviamente rappresentare Confagricoltura rappresentare gli imprenditori agricoli pugliesi non significa solo fotografare quello che noi abbiamo perché l'azienda agricola abbiamo detto che è un'azienda agricola che si sta innovando e si sta digitalizzando ma dobbiamo guardare avanti nel giro di qualche settimana avremo una discussione importante in la Commissione Ambiente del Parlamento Europeo dove si è già stato discusso e approvato in Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo ora si discute in Commissione Ambiente poi andrà in aula un'importante proposta di Confagricoltura che è la regolamentazione del Carbon Farming Carbon Farming che ci può permettere di essere ulteriori fare un passo avanti uno sforzo gigantesco da parte di quelle aziende agricole che potranno avere un ruolo nel assorbimento della CO2 e nel nel benessere complessivo dell'impresa una regolamentazione di questo tipo significa veramente per l'impresa agricola un passo gigantesco avanti oltre poi tutte quelle che è la ricerca per esempio l'Etea per esempio tutta una serie di innovazioni in ambito appunto scientifico che il paese che l'Italia ne parlavamo prima ieri sera anche con qualche nostro ospite di quest'oggi dobbiamo dobbiamo continuare a cavalcare l'Italia non può rimanere fuori da tutto questo e dobbiamo fare in modo che la ricerca e le università e i centri di ricerca continuino ad andare avanti affiancati dalle imprese le imprese lo hanno detto da più parti lo ha detto anche il direttore Pardolesi che saluto e mi complimento per il premio che ha ricevuto davvero meritato le imprese possono svolgere un ruolo gigantesco e importante per quanto riguarda affiancare la ricerca e la formazione la ricerca è fondamentale per per esempio per la xylella attualmente noi non abbiamo un'evidenza scientifica noi dobbiamo continuare a investire in questo in questa direzione non solo dal punto di vista della ricerca per quanto trovare una soluzione al problema fitopatologico ma anche per quanto riguarda l'innovazione della gestione di un problema di questo tipo e quindi approcci e metodi di gestione dell'azienda agricola e del territorio della legislazione anche in questa direzione quindi uno sforzo che bisognerà fare e dobbiamo continuare e dobbiamo continuare a fare insomma e per chiudere per non togliere ulteriore tempo ai colleghi relatori che mi seguiranno quello che noi siamo oggi chiamati a fare è continuare a correre con una velocità ancora maggiore destinato anche grazie a tutte le tecnologie che ci affiancano e ci aiutano l'intelligenza artificiale che noi continuiamo ad utilizzare anche nella gestione di un'azienda agricola all'interno all'interno di quel portale c'è un sistema di intelligenza artificiale che ci permette anche di aiutare a prendere delle decisioni quindi ci aiuta a fare un passo avanti ma immaginando che l'impresa oggi non è più l'impresa agricola di oggi non è più l'impresa agricola di ieri ma che può svolgere davvero un ruolo centrale in quello che è il processo di crescita del nostro paese e in modo particolare del nostro mezzogiorno Francesca tu vieni da una regione del nord ma hai il cuore pugliese perché abbiamo per esempio tanti giovani che lasciano il rapporto Istat ce lo diceva tanti giovani laureati che lasciano la nostra terra per altre regioni o altri paesi per fare in modo da classe dirigente della mia terra saluto l'onorevole De Palma che ci ha raggiunto e da classe dirigente della nostra terra tenere quei giovani laureati nella mia Puglia nella mia Taranto e per fare questo dobbiamo rendere un territorio competitivo e per renderlo competitivo dobbiamo fare in modo che le imprese continuino a crescere e continuino a crescere grazie all'innovazione e alla ricerca grazie grazie a te Luca la Puglia si è sempre contraddistinta come un territorio silenzioso il tuo intervento in realtà testimonia come quello di molti oggi oggi qui come si stia parlando invece di un territorio molto avanzato davvero ho avuto personalmente il privilegio di sperimentare come su più fronti l'innovazione sia davvero ad un alto livello per cui sono contenta di aver raccontato anche attraverso la tua esperienza questa ulteriore occasione di innovazione di ricerche di capacità di attrarre quegli investimenti cui invece spesso è la critica più forte che si fa al nostro paese uno dei tuoi interlocutori so che è stato Vittorio Pulerà un altro dei relatori della nostra sessione dei lavori Vittorio Pulerà è tra i fondatori di Firming Tales correttamente pronunciato? bene un gaming che ha tra i suoi obiettivi proprio quello di mostrare in realtà le infinite potenzialità delle nuove tecnologie della blockchain degli NFT delle criptovalute parliamo di un gaming che è nato proprio per unire la produzione reale alla produzione virtuale all'interno del metaverso al fine di costruire quel ponte una best practice per il mondo agricolo a te la parola sì vi ringrazio per l'invito e per averci dato la possibilità di avvicinare quello che è il nostro progetto Farming Tales nasce diciamo dall'idea di appunto collegare quello che è il mondo dell'agricoltura al mondo della blockchain e quindi di andare a creare un valore intrinseco che fino ad allora ancora non era stato portato in quello che era diciamo il panorama in cui ci ritrovavamo il nostro primo approccio fu quello di andare a creare per mezzo per mezzo di un piccolo gioco quindi possiamo dire un piccolo gioco di carte dove gli utenti dove gli utenti andavano a matchare blendare degli nft che avevano al loro interno rappresentavano le immagini che potevano essere di un apicoltore dei strumenti da lavoro all'interno dell'azienda apistica riuscivano ad ottenere unendo questi nft un nft finale che gli dava la proprietà poi del prodotto reale che veniva spedito a casa direttamente dell'utente che aveva partecipato e quindi dava un controvalore a quello che era effettivamente fino ad allora soltanto un'immagine rappresentativa su blockchain andando avanti in questo in quest'ottica abbiamo creato inizialmente quella che è una fattoria iniziale quindi dove l'utente potesse in qualche modo giocare e iniziare ad approcciare al mondo anche videoludico poi e al contempo iniziare a prendere familiarità con quella che era poi la vita all'interno di una fattoria vera e propria quindi fare in modo che l'utente potesse immergersi poi in questa realtà alla base di questa fattoria che poi diciamo va a dare vita a quello che è il metaverso successivo è stato creato un token che regola diciamo la tokenomics in sé di di tutto il gioco e di tutto il e di tutto il progetto questo token può essere guadagnato in diversi modi sia dalla vendita poi dei nostri prodotti sotto forma di NFT quindi direttamente vendendo le NFT sia giocando all'interno del nostro gioco una volta ottenuto questo token questo token a sua volta riscambiabile per moneta diciamo fiat quindi euro dollaro oppure a sua volta può essere riutilizzato per acquistare nuovi NFT o direttamente i nostri prodotti all'interno delle nostre aziende reali e diciamo da questa base quindi dalle nostre due piccole aziende mia e dell'altro mio socio si è volta l'idea di cominciare a far partecipare anche altre realtà all'interno di quello che era ormai il nostro metaverso perché siamo arrivati diciamo a un a un livello comunque di gioco abbastanza avanzato quindi abbiamo pensato di creare degli edifici dedicati che potevano essere diciamo attribuiti sia a degli utenti privati in modo tale che potessero guadagnare un passivo da quello che veniva diciamo ogni edificio va a rappresentare per esempio il mulino per il grano come c'è la fabbrica per lo zucchero quindi tutti gli utenti che vanno ad utilizzare questi edifici in realtà vanno a pagare una fee al proprietario dell'edificio questo in connessione al fatto che altri edifici sono in realtà di proprietà poi di altri imprenditori quindi di altre aziende o di ristoratori o anche nel campo della manifattura perché ultimamente abbiamo anche collaborato con una conceria abbastanza importante creando diciamo questo ecosistema l'utente ha la possibilità di acquistare il prodotto diciamo o utilizzare il token che guadagna giocando oppure passare poi per la moneta tradizionale e avere diciamo nello stesso metaverso sia il produttore che diciamo come posso dire uno sbocco a livello anche di aggregazione anche a livello di gioco perché avrà la possibilità di giocare guadagnare acquistare il prodotto reale e farlo arrivare a casa allo stesso tempo comunicare con il produttore se è molto più diretta diciamo lo scambio che si va ad avere all'interno del marketplace del progetto quindi andando ad eliminare diciamo gli intermediari che ci possono essere diciamo in uno scambio di prodotti come possono essere appunto miele zafferano ci ritroviamo con l'utente finale che ha la possibilità effettivamente di sfruttare il tempo libero quindi passare magari i classici giochi che diciamo vengono utilizzati sul telefono durante i momenti di svago ottenere questo token che gli permette poi effettivamente di fare la spesa di fare la spesa da casa e di avere un introito anche da questo gioco che diciamo va ad unire il mondo reale a quello che è il mondo videoludico blockchain ovviamente ci sono varie integrazioni che sono possibili da fare uno dei vari esempi che avevamo portato qui era appunto sulla gestione di un vigneto dove è possibile appunto dividere questo vigneto in più lotti e a sua volta attribuire questi lotti poi agli utenti in base alle varie diciamo obiettivi che in questo caso l'imprenditore vuole avere quindi un format del genere può essere applicato poi diciamo sia a un utente privato quindi sia al classico consumatore che anche una visione diciamo un po' più imprenditoriale quindi per altre aziende quindi uno scambio che poi può essere tra azienda e azienda a livello di valore e a livello poi di in questo caso anche NFT proprio in sé perché sarà proprio l'NFT che avrà il valore intrinseco dell'azienda in sé questa è diciamo la nostra visione di quello che è il metaverso perlomeno di Farming Tales nel futuro a livello di obiettivi diciamo per parlare un attimo di numeri siamo riusciti a muovere quasi 100 milioni di volume di mercato in asset del nostro gioco ovviamente non noi ma gli utenti che hanno scambiato e hanno interagito con Farming Tales durante questi ultimi due anni e ovviamente ha raggiunto l'obiettivo che era quello di finanziare le nostre aziende che ovviamente partivano da zero e appunto tramite il connubio NFT blockchain e mondo reale siamo riusciti effettivamente a finanziarci e a dare vita a diciamo un nuovo modo di poter vedere quella che potrebbe essere l'agricoltura in futuro comunque tutto questo settore agroalimentare o anche manifatturiero voi volendo grazie grazie Vittorio per la tua testimonianza Alex Alex Grek a te l'onore di chiudere la sessione dei lavori di questo panel accendere elementi nel mondo delle imprese Alex Grek è professore all'università di Malta consulente di importanti realtà a livello internazionale Commissione Europea Unesco ha recentemente scritto un libro dal titolo A Manifesto che dove a te chiedo Alex di relazionarci sull'importanza che queste tecnologie lavorino con l'uomo e non contro l'uomo penso sia poi ci sono le slide arriva allora io non sono italiano ok allora parlo un pessimo italiano allora quando Gian Mario mi ha detto su Whatsapp vieni a parlare delle tue cose ho detto guarda meglio così no? allora questo è il mio mondo la media la tecnologia l'educazione io sono arrivato a 62 anni a pensare che non so se queste cose sono forse per il bene o per il male e so molto bene che ci sono professori come me qua ahimè ahimè abbiamo imparato tante cose dal covid no? ma la cosa che non abbiamo imparato è che cosa facciamo con la cosa che si dice l'informazione da dove viene l'informazione una cosa molto interessante perché io ho scritto un libro che si chiamava Media Technology and Education in a Post-Truth Society dopo la morte della verità la morte della verità queste sono cose che fanno parte del vernacular adesso no? fake news ricordate quel signore no? che si chiamava fake news trust no? la fede in cosa? in la verità o in altre cose e allora è bene io insegno persone come queste io insegno studenti che hanno 18 anni fino a 70 anni insegno Internet Technologies insegno New Media e ogni tanto quando faccio questa cosa è una stand-up comedy dell'educazione no? ogni tanto c'è qualcuno che dice no? sappiamo tutte queste cose qua la crisi dell'informazione che dobbiamo essere molto più critici no? come ho sentito nel video guarda se voi conoscete Ken Robinson che è morto da 10 anni fa e queste cose lo diciamo da tanti anni prima cosa i regolatori i regolatori regolatori non hanno fatto un grande lavoro di regolare o anche di comprendere tecnologie ok? guardate quelle cose che stanno succedendo in America in Europa stiamo facendo le cose interessanti c'è la Digital Education Act forse facciamo qualcosa il concetto della sorveglianza no? ci sono delle camere qua no? può essere fare un barbecue nel tuo giardino e c'è un drone no? perché c'è un drone? non lo so per l'entertainment o per l'educazione non lo so Shoshana Zuboff è una di queste che ha scritto tante cose su queste cose e conoscete Frances Haugen che è stata una delle whistleblowers su Facebook su Facebook queste tutte queste cose no? lo sappiamo da tanti anni ma continuiamo a parlare e continuiamo a scrivere su queste cose conspiracy theories QAnon la verità cos'è? è quella che dice Trump è quella che dice mio babbo che ha 86 anni conspiracy theories è quello che è successo no? in Prime you know Vision 6 di gennaio è stata una cosa di entertainment ma sono stati social media e tante piattaforme che non conosciamo qua in Italia o a Malta no? che hanno fatto che un sacco di persone si sono mobilizzate perché pensavano they thought they believed che qualcosa è successo è successo o no? non lo sappiamo e infatti questa cosa visto che Trump sta per fare il second wave no? third wave o fa in galera o diventerà presidente no? here you have wannabe dictator speaks of the White House after having his political rival arrested è Trump che sta parlando di Joe Biden non un'altra cosa cosa avvertite? l'Ucraina i ragazzi Black Lives Matter come capiamo noi che cosa è successo o non è successo no? se c'è un vigile e qualcuno si ammazza usiamo sempre queste cose qua no? i screens voi ce l'avete qua sicuramente adesso avete fame no? siete dovete andare in bagno sicuramente state facendo queste cose qua no? anche io ma i miei studenti si stanno cambiando loro mi dicono che loro non sono come me mio figlio che ha 21 anni dice ma io non rappresento nessuno anche se sono un Generation Z sono io non sono come gli altri comunque questi problemi che ce li abbiamo no? global warming sta per finire il mondo quando è la mia età perché io ricordo Alberto no? hai tanta fretta e io ho fretta adesso perché il tempo non è dalla mia parte anche per loro hai visto che cosa è successo no? con il caso in Spagna no? me too meets pain meets football meets lgbtq plus meets phones meets screens meets moral panic meets cancel culture possiamo essere tutti cancellati uno dei miei studenti mi può adesso registrare la mia voce e in dieci minuti io I will be starting to say things I didn't mean no? perché la macchina dell'artificial intelligence fa anche queste cose adesso labels labels are for cans not for people please share artificial intelligence lo sappiamo questo tizio qua no? twitter ex no I'll throw the kitchen sink at you everything's gonna change noi fidavamo forse di twitter forse no non so che cosa succede adesso e continuiamo the godfather of AI leaves google and warns of dangers ahead l'artificial intelligence sta per ammazzarci dicono un altro mio amico che è anche un professore di algorithms a Harvard mi dice che stronzate sono gli uomini che useranno l'artificial intelligence per uccidere qualcun altro che cosa sta cambiando avevamo le stronzate le social media platforms per 20 anni adesso abbiamo queste cose move on no? sempre move on e mentre i miei studenti stanno qua no? vogliono diventare influencers con le mie macchine no? anche la mia nipotina che ha 18 anni si stanno guardando e io continuo a dire questo è un momento un momentaccio stiamo tutti stuck in this moment no? oh no allora allora che cosa questa cosa ha a fare con il mondo dell'educazione è successo il covid mamma mia tanti professori hanno detto io vado su cosa? su zoom cosa è zoom? no non posso farcelo stare o a casa gli altri hanno detto no andiamo sull'online learning no il mio decano mi ha detto guarda il mondo dell'educazione per cambiare è come un tanker ha bisogno di 5 anni non avevamo 5 anni avevamo 5 giorni per mobilizzare tutti noi dell'educazione qualcuno di noi ce l'abbiamo fatta altri no c'erano anche i professori che hanno detto non posso stare davanti allo schermo della camera perché i miei studenti forse cominciano a sorridere e gli altri ha detto gli studenti hanno detto io non voglio la camera su di me perché io abito una casa con 5 sorelle e non voglio che tu il professore vedi nella mia stanza guardi la mia stanza tutto un altro mondo no allora io dico allora questo era il mondo questo è diventato il mondo dell'educazione but cheetahs oil tankers you decide io continuo a dire che la vita no l'unica cosa ho capito che non è un black and white forse no we are always waving these shades of grey no la verità non la verità a un certo momento ho detto ma quanto è stata l'ultima volta che noi abbiamo chiesto alle persone giovani per soluzioni per le crisi che ne ce l'abbiamo adesso e questa è una cosa che mi infastidiva continuava a infastidirmi infatti a un certo momento l'anno scorso ho preso un sacco di soldi dal ministero del bene esteri a Malta ho detto allora facciamo una conferenza e inviterò un paio dei miei colleghi eravamo 200 tutto il mondo filosofi scientifici non so troublemakers da ogni parte e abbiamo fatto questa conferenza e ho detto let's address media freedoms perché io faccio un consulente per l'OSCE per l'OSCE la media freedom per loro erano i giornalisti proteggiamo i giornalisti ho detto ma guarda il giornalismo cos'è adesso questo è il giornalismo tutti i miei studenti il mio figlio può essere un giornalista questo è un giornalista combating misinformation disinformation e Trump gli altri è stata istituzionalizzata no? questa cosa l'altra cosa è understanding online behavior tutti quasi tutti i miei studenti vogliono essere imprenditori o su only fans perché dicono che le ragazze dicono che sono only fans sono imprenditori ho detto davvero sapete che cosa è only fans no? se no potete fare un pari di cieco è un mondo che uno può fare che cosa fa è spogliarsi per soldi ma è un mondo beh comunque questo mondo sta da 30 anni no? sui webcams ma adesso è stato istituzionizzato e puoi fare dei soldi puoi diventare un influencer you're an entrepreneur I'm not self-employed non ho bisogno dell'impiegazione ho un sacco di soldi ho le NFTs pure allora la conferenza questa non lo potete vedere abbiamo c'erano persone dalla BBC dal Guardian da tutto il mondo ma abbiamo messo addressing media freedoms combating disinformation and online discrimination in queste garzellette and these things and then we went down the rabbit hole si dice in inglese no? un concetto un mind map tutte queste cose erano i temi per questa maledetta conferenza che mi ha quasi ucciso conferenza allora siamo qua in una conferenza what use are conferences Gian Mario che cosa vuoi fare? io sono qua perché c'è Gian Mario Gian Mario mi ha mandato un messaggio vieni che cosa vengo a fare ma vieni ricominciamo io ero qua prima del Covid no? allora ricominciamo ricominciamo what use is this? perché siamo qua? per vederci per guardarci negli occhi per avere i video su Sky o su streaming what legacy is there? che cosa si farà con queste cose qua? oltre le memorie no? scambi di contatti e roba del genere e allora la cosa che noi facciamo sempre registriamo tutto e la cosa che abbiamo fatto in queste conferenze io ho mandato tre dei nostri giovani cioè ventenni ho detto guarda adesso c'erano i vecchi c'erano i registriamo tutti che cosa avete sentito? what resonated with you? what made sense to you? ok? un manifesto infatti il manifesto non era un libro prima erano soltanto idee che poi io per tre mesi quattro mesi ho provato ma poi c'era anche la community of practice noi professori qua là che cosa facciamo questa cosa abbiamo fatto anche questa nella conferenza no? a Malta noi quando when you have the washing line non c'è la washing line qua no? scrivevano pure degli doti allora il manifesto che funziona di più come un libro e per questa ragione che ieri abbiamo cominciato a pensare se c'è la morte del libro o no no? ci sono 77 osservazioni qua e 84 tesi ma per chi è questo manifesto la prima cosa policy makers i governi quelli che hanno il potere anche nel mio paese io sono stato un consulente da un paio di primi ministri ministri sono persone umane no? regulators the big tech small tech think tanks education institutions l'online media i giornalisti euro made governments european commissioning l'OSC council of europe pure gli influencers perché i giovani sentono gli influencers non sentono me no? non vogliono ascoltare un uomo di 62 anni eppure gli organic intellectuals come Gian Mario e la tempesta nel manifesto il manifesto si apri qua dice che cosa si può fare noi abbiamo già cominciato a fare queste cose ci sono idee per podcast young people summits senza i vecchi lobby groups co-learning changes in curriculum internships training no? questo come si chiama in italiano il formatore formatore noi arrivavamo prima un anno fa vlogs videos bla 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 networking tutte queste cose qua t-shirts io fra due settimane ricomincio ad insegnare sicuramente questo adesso è required reading ma in inglese se volete farlo in italiano volontieri it's a freeware it's under a creative commons license ok allora io finisco I think we have to address media freedoms we have to combat misinformation disinformation we have to understand online behavior che cosa potete fare voi voi ultimo slide quando ho fatto questa cosa questo signore qua si chiama professor Hert-Lovinck è uno dei he's one of the grandfathers of the internet io lo conosco un po' no e lui mi ha dato un messaggio perché io ho mandato pure questo e lui ho detto Alex questo lo facciamo in tedesco in germanese forse in italiano non è stato fatto in italiano and then we'll activate our networks è quello che chiudo con questo che cosa volete fare grazie siamo in saluti finali sì grazie Alex per il tuo intervento grazie a tutti per aver partecipato fino all'ultimo a questo nostro rinizio e io direi i saluti finali viene Ivan viene Ivan allora oggi è stata per noi una giornata molto importante diciamo diciamo in gergo abbiamo chiuso col botto con l'intervento di Alex Grech che è stato fantastico fenomenale noi lo sapevamo ecco perché ti ho invitato saluti finali io chiamo per i saluti finali abbiamo fatto i saluti iniziali con e fare i saluti finali con l'onorevole Vito De Palma i saluti finali dopo questa giornata grazie diciamo che non aveva previsto questo intervento però no io penso che questa giornata è stata una giornata ricca abbiamo avuto tutti la possibilità di nutrirci di qualcosa e così come era nel diciamo nell'obiettivo della giornata che era quella di accendere le nostre menti abbiamo acceso menti riflessioni e soprattutto abbiamo avuto la possibilità di apprezzare che intorno a noi c'è un mondo molto molto vasto abbiamo necessità di conoscerlo e per conoscerlo dobbiamo studiarlo dobbiamo approfondirlo e sicuramente avremo la possibilità di caro Gian Mario di continuare su questa su questa strada se tu lo vorrai io ci sono oltre al discorso anche della giornata del formatore che penso che sia anche un una tappa importante più che un momento d'arrivo può essere un momento di partenza per per costruire ecco un percorso importante per tutti oggi questo luogo importante vi ha ospitato è il luogo della della Camera dei Deputati è il luogo dei cittadini italiani quindi è il vostro luogo e io penso che possiamo ritornare a casa molto molto carichi e ci siamo riempiti sicuramente di qualcosa in più grazie grazie a tutti e buon ritorno a casa a prestissimo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti